Ahah! Ora c'è! Perfetto! Ok, già mi preoccupavo... Preoccupavo o no? Genshin Impact ha sempre strani modi per apparire in... Ovunque dovrebbe... O dovesse apparire Ciao Waldorf, ciao Kami-kun, ciao Zoro Che succede? Metto una sfida e su tutti spuntano Ciao Kami, benvenuto Cosa conviene di bello qui? Come... Non sento l'audio? Non c'è musica Non è per niente normale Non è tipo assolutamente... Ok, devo ripristinare tutto, vero? Allora, riguardo lo streaming di oggi All'improvviso è sparito Oggi parliamo di Nero in Impact Il gioco dove devi Cercare nel nero Dei buttarci i soldi e forse appare una faccina felice È il riassunto di Genshin Impact Di sempre No, ho messo la... La sfida della community E fatto Ferox Me l'ha suggerita Mi ha chiesto se lo gioco E ho detto mai Ho detto qualcosa della sfida della community L'ho provata l'altra volta con... Quell'altro gioco L'ho già dimenticato, vero? Era Blaze of Fire L'ho provato con quello Dovevo chiedere anche il permesso dell'autore Effettivamente a quel punto Ma ormai è una questione che non c'entra più Su E quindi ho visto che è subito stato distrutto il traguardo E quindi ho pensato che sarebbe stata un'idea carina farne altri Così l'ho accennato a Michael Ieri durante la live di RPG Maker Ho detto che avrei fatto uno alto Perché così non lo distruggete come l'altra volta Non troppo alto che sia infattibile giustamente E contavo di farlo partire oggi di suo piatto Perché oggi Michael non c'è Ma c'è Zoro che mi ha scoperto il mio piano Quindi non posso più farci niente L'ho fatto apposta oggi Perché oggi non penso ci sia Michael Quindi mi guadagnavo un giorno per mettere la scadenza Ok, ora c'è la musica Me l'ha caricato anche molto più veloce Perfetto Eccola qui Ho nel team Mona Semplicemente perché lei corre veloce E quindi è per andare da un punto all'altro In modo più efficiente Oggi non è aperto il gioco Quindi ci saranno ancora due 3-4 missioni da fare Ma non importa E oggi su Genshin Impact Ho scelto di giocarci molto meno a Genshin Impact Perché Non lo so Ci sono Troppi dialoghi solitamente Voglio fare qualche comunque live Dove vedo le scene di personaggi E missioni speciali I personaggi Ma oggi andiamo all'avventura Oggi andiamo nel Chasm Una zona nuova Che dovrebbe essere Una miniera dungeon Sento la mancanza un po' In Genshin Impact Di dungeon veri e propri Ci sono solo i domini dove sono corridoi Con dei nemici Con un puzzle E mezzo In mezzo Ma niente di più Davvero niente di più Quindi ho pensato Oh anzi Quando ho sentito che è un dungeon Effettivo ho detto Wow Sarebbe il primo dungeon Di Genshin Impact Effettivamente E quindi finalmente Anche oggi possiamo andare Effettivamente All'avventura Diciamo all'avventura Più Delle altre volte Anche Dovrebbe essere apparsa Nel menu La missione Perché Al gioco piace Spammare missioni Che puoi fare nel menu E Oltre a quello Ah si Oltre a quello Oggi Ci prendiamo a Yaka Tipo Dov'è Le Lei Visto che Ho quasi aggiunto Il valore Per prenderla Quindi direi che Ce l'ha assicurata Aspettiamo magari Qualcun altro Per farlo Tipo Fado Presumo Siamo indignato Da questa mia proposta Della challenge nuova Ah mi mancano punti Per farne dieci alla volta Magari quando prendo Primo gem Per fare Dieci desideri alla volta Ecco la mona Non è bellissima Ok Non si vede ma Proprio perché Corre veloce E comodissima Salve Unica cutscene Poi Non si invita Se ci sono anche Le storie Effettivamente Hey Catherine Non è tipo il titolo Non è tipo il titolo Ok Sappiamo che devo andare qui Per il chasme Perché Per sbaglio L'ho triggerata La cutscene E l'ho subito chiuso Per evitare che parta Ma 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 dovrebbe essere Nel menu Delle quest Che deve andare qui Per andare nel chasme Catherine Ok Continua ad orare Paimon Forse Non ho capito cosa Sotto in tenda Mi sa che mi per Mi sono perso nel mentre Un bel po' di Bugs toy Di personaggi secondari Ah si pronuncia Chasm Non chasm Io lo pronunciavo Chasm Invece Chasm Come non detto Da ora no Catherine Ha raggiunto Un'altra ruta Catherine Aspetta A quale altra Catherine Ti riferisci Catherine No Non ho idea Ma si Catherine A quanto pare È ovunque Nel senso È in ogni città Al balcone Delle missioni Quindi è Misteriosa Di per sé Presumo Ma è molto importante Pur essendo Un NPC Che non Che non è caratterizzato Bene Abbiamo finito La Ah Questa missione È di storia È di storia Questa missione Pensavo fosse Così Una Una passeggiata Così per fare Sì Sì È di storia Io pensavo fosse Che vai a cazzeggiare Lì nella miniera Ma a quanto pare Storia Ok Ok Sono sorpreso Io pensavo Che andassimo Appunto Solo a cazzeggiare Ed esplorare Invece C'è anche un po' Di trama Da fare Posso anche ignorarla Volendo però Meglio di no Inoltre C'è anche una side quest Che ho accettato Proprio qui accanto Da Quella accanto a lei Come si chiama J K Lan Ok Tre lettere Come sempre Era Questa Qui Ma era bloccata No Non è più bloccata Bene così Va bene Allora All'avventura Ho attivato Un checkpoint Di dentro Perché sono Corso un attimo Per fare Una quest Giornaliera Una volta E l'ho attivato Perché sì Ma non ho visto Praticamente niente Katrine Quel gioco Platform Dell'Atlus Ah quello Sì sì Ok Ho presente L'ho visto In sconto Pensavo Se prenderlo Ma poi ho visto Che Il gameplay Era carino Ma non mi interessava Così tanto Effettivamente Oh aspetta Devo attivare Il turbo Perfetto Direi che va bene Qui Il protagonista è coinvolto In un dilemma amoroso Tra Katrine E Katrine Ah Ah Si chiama Ah L'altra si chiama Katrine con la C Questo non lo sapevo Che forte E lì si chiamerebbe Quaterine Non ce n'è un'altra Magari con un altro Questa si chiamava Katrine normale No Ah no E con la Y Allora Potrebbe essere Incluso nel gioco In un futuro Aggiornamento Quel gioco Vale la pena Perché Ho detto un'occhiata Al gameplay E Era carino Ma non lo Avrei mai Comprato solo per quello Magari Quando lo rivedere In sconto Potrei farci Un secondo pensierino Ma di base Mi pare anche strano In verità Come la storia Di quel tirangolo amoroso Nel diremo amoroso Che Con Gameplay di arampicarsi Su cose che cadono Su di specchi Letteralmente Quasi Quasi Letteralmente Ok Non penso Mi serve a fare niente Per passare Perché tanto Potevo anche rampicarmi Sui muri No Io sono intanto Anche rampicandomi fuori Il casmo Il casmo è sigillato Se sei un straniero Per favore Oh sei tu Ah no Corri Paimon forza Ora Dai ci riconoscono Come salvatori Del regno No Scusate per spaventarvi Vi ricordo Come posso dimenticare La persona che mi ha salvato La vita E tu chi sei Mi sono solo trasferito Qui Non pensavo di incontrarti Sono fortunato Eh Salvato L'abbiamo fatto Oh forza Ero Ah Ero al palazzo di Giada Quando abbiamo combattuto Quel mostro marino Beh Si era un'impresa Abbastanza eroica Da parte nostra Effettivamente Non ti ho mai dimenticato Tutti i compagni Che hanno combattuto Quel giorno Han visto cosa hai fatto Allora Parlami Del Casm Due anni fa È recente Un incidente Sconosciuto è avvenuto Nelle profondità Della caverna È il Shinks O i Kshin Kkin Kwin Kchin K K K K Kshin Kshin Come si pronuncia No I Khing Kshin Sono comunque I nobili Che governano La città Di Lui È andato a ordine Di chiudere questo luogo Le miniere Sono state evacuate È un peccato Che queste miniere Enormi Hanno smesso di produrre I lavoratori Sono stati compensati E se ne sono andati Appena se ne vanno È difficile Riportarli assieme Eh scusa Credo che eri qui Per un business Importante Non ti darò fastidio Se domande Chiedi a Manning Dovrebbe essere Il campo Non è che Non mi fido di te O simili Bacca Ma è mio lavoro Ricordarti Di non fare niente Che infranga la legge Non preoccuparti Poi fidarti di noi Forza Va bene anche Infrangere le leggi Del Del Detaplano Che c'era Ancora quella regola Del Posso fare tre passi C'era quella regola Che non posso Usare le correnti Dagli slime Ma io lo faccio spesso Eccolo Il chasm E non è questo Il chasm Di sé Si estende in profondità Per la prima volta In Genshin Impact Quindi sono un po' emozionato Ci accompagnano anche Con Quelle manine qui C'è un checkpoint Vabbè Da qui un po' In verità Siamo liberi Eh Solo il checkpoint Era praticamente Molto incentivato Ecco Quindi rubare ferro in giro E Non infrangere la legge Vero Vero Qui c'è una missione Potremmo anche accettarla Cucina Ah Tempo di sbustare Queste nuove ricette Sakura I cracker I shrimp Sono Le ragoste No I cracker Di ragoste Di ragoste Oh Eh Ho aumentato la vita massima Ah Questo non l'ho mai visto Dov'è Sakura Eccoli qui Scavolo Sembrano buonissimi Io Voglio mangiare All'improvviso Patate Oh E petali Di Di Melo Sembra buonissimo Chi lo voglio cucinare Cucina tu noel Certo ci metti anche il tappeto Che porta a petali Io non so quanto è commestibile Sai Ho fame Non sei l'unico Sembra delizioso Cosa E' anche croccante Li voglio Cioè Vabbè I cracker sono croccanti Ma Immagino siano anche succosi Succose croccante E' Fantastico Per il palato Perché Perché Non mi danno anche la ricetta Per farne il mondo vero Ah Ancora uno dai Gli mangiamo poi con calma E poi abbiamo il La zuppa di Torta di riso Rice cake soup Ovvero Rice cake soup Dove l'ho messo? Ah Forse Eccolo qui Ah Strano E' strano ma Boh Ne buttiamo uno E poi Uno di questi Penso l'ho sbloccato Via Reputazione Non ricordo quale però E fine c'è Questo pen No Questo è da Questo è dal Dall'evento che è finito Quindi questo è limitato Non che sia qualcosa di nuovo E agli effetti come altri ma Rainbow Aster E' un succo no? Ah Sarà qui in fondo Ok Rainbow Aster Anche questo sembra molto buono Abbassa la stamina Questo penso lo potrei anche usare Perché chiaramente In particolare In streaming Vorrei arrivare nel punto adeguato Qualche millisecondo prima Ecco Da mesi che paragoni Tra Genshin e Breath of the Wild Vengono fatti A Breath of the Wild Sarebbe più semplice Se avessi avuto La lista di cibi Da preparare Si lì devi ricordarti E' un po' brutto Su Zelda Che devi ricordarti Effettivamente Però Ma non per forza Perché Lì Zelda Non è importante avere ricette Ma La cucina di Zelda Di base Non mi piace Perché Si esploita Con Butti un fungo A cucinare Uno solo E batti Anche Se cucini Quattro pezzi Di pollo giganti A che serve A cucinare Se puoi buttare Un fungo E ti fulgli automaticamente Non ha senso A che serve A cucinare cose Se ti basta buttare Un fungo E ti fulgli automaticamente Becchi anche un cuore extra Non ha un minimo di senso Che è bello Che puoi fare anche Gli effetti Cucini Pezzi di mostro Per fare pozioni Oppure Cibi Per fare Cibi Va bene Ma è facilmente Rompibile dal fungo E' terribile come cosa E ciò guardia Ma salve Ma chi si vede Com'è che è in fin Da quando ho abbandonato Guarda La risposta è Questo Questo è nuovo E ci sono appena entrate A quanto pare Si svolge anche Sottoterra Quindi sono molto emozionato A riguardo Non parlo mai Con gli NPC Perché purtroppo Parlano un pelo troppo Andiamo a vedere Cosa combina quello Prima di avventurarci Anche perché Vorrei scendere le scale Non vorrei Buttarmi così Anche se posso Non c'è la difesa Qui non c'è In verità c'è un Minigioco Durante un evento Ma Sì di base Non c'è Cioè c'è in verità Puoi farti lo scudo Ecco in qualche modo Ah Raggiungevi Zoro Almeno per completismo Eh infatti si Completismo Le ricette Le ricette non ci sono A questo punto Postarci in Zelda Perché Non serve niente Fare i cibi diversi Anche se te le tira in giro Tramite i poster Nei luoghi di Nei luoghi di sosta È strano Come non Serve a molto Sapere Che cibi si possono fare Se non Che effetti fare Ecco Basta buttarci una squama Di drago Alla fine mi è superato San coi Velo 79 Eh Ogagno al 90 Ma gli altri lo fermi All'80 79 Spero te la puoi permettere Per assumere Una Una persona Extradimensionale Che ha salvato La regione Da una bestia Del mare No Beh che Ha anche contribuito Il palazzo di Giada Che si è schiantato In testa al mostro Dettagli davvero Avrebbe avuto senso Se avessero aggiunto Qualche effetto Bonus ai cibi Sì Ogni tipo di cibo Dà un specifico bonus Non che Magari in aggiunta Ha una caratteristica Al di sopra Magari dell'effetto bonus Che fai E' complicato Che nome è Che nome è Fammi dominare Mostri delle profondità Sarebbe molto figo Mostri È un po' Normale no? Ah Mostri che ignorano persone Beh Va bene no? Quello è il problema Ok allora la cosa Potrebbe cominciare A essere inquietante Mostri che entrano E non escono mai più Stanno preparando un'armata No magari c'è qualcuno All'interno di questa miniera Che attira i mostri Per farsi un'armata Strano E il termine corretto Mi piace Paimon come Sia come scomporta Sia di nuovo Ma ripeto La nausea Come doppiata Ha detto Adorabile Devi considerare l'opinione Di Paimon Prima Non so neanche farlo Non c'è nel testo Per questo bisogna ascoltare Quando le cose strane accadono Quando le cose strane accadono Potrebbe essere coinvolto E l'altra opzione L'ordine degli abissi Che era tipo Abbiamo scoperto Era la popolazione Di 500 anni fa Che si è convertita In mostro Credo Dopo No L'ordine degli abissi Era la popolazione Di 500 anni fa Che ora vive Nelle vene sotterranee Non ricordo bene Quella parte Purtroppo Aspetta Mettemi un marcatore Così dopo mi ritrovo Quel Di Paimon Ottimo Ottimo Dove vanno No Maledetti No No Non posso entrare Cosa vuol dire Ah ok ok Devo andare qui Devo andare qui Quindi Eh Posso fare Devo prima fare questa Va bene Se devo fare queste cose Dimmi qua Ah questa però è doppiata No Dieci Casse di carne Vegetali Devono essere mandati Al magazzino In cambio Di Parti extra Di strumenti Attrezzi In varie quantità In molte quantità Ah scusate Ah siete voi Eh Da quando siamo così familiari con te Si lui chi è Siete gli eroi che hanno salvato Liu Ah si tutti quanti Ormai siamo famosi Si Se siete qui al Chosmu Deve essere importante Avete un permesso Delle dice chi Che cing vero Eh No Ah allora Visto che siete familiari Con Lady Nigguang Un permesso a lei Potrebbe avere più importanza Posso vederlo Eh Cos'è questo Eh Eh Nanda Io Paimon Non c'abbiamo neanche quello Beh Lord Shang Tzu Reclusiva Eppure comunque Approciabile Ma parla Sempre di Nigguang La Kappa Di Non è tipo La È una sorta di Kappa Ma non Kappa Della città di Liyue È quello che ti ha dato Il permesso D'entrare Sicuramente Oh no Parla di Parla di un'altra persona Ok Sta facendo Sta listando Le persone Che potrebbe Avermi dato Il permesso D'entrare In quel caso Posso vedere I vostri documenti Ah Immagino Non ci avete Neanche quelli Beh Gagno Lavora A terrazza Yunjin Quindi La sua opinione Sarebbe Anche quella Ok Avete Il suo permesso Vero In verità Sai cosa Potremmo chiedere A Sgagno Di firmarlo Lo posso cercare Ora Quindi siete venuti In un momento Sbagliato Nella stagione Per visitare Il casm Quindi è una zona Molto pericolosa Se un mercante Vi ha chiesto Di parlare Prima Allora vi suggerisco Di leggere Port Attentamente Di cosa sta parlando Devi ancora All'anno I soldi per Le bibitte Non dimenticarlo Parlava Paimon L'altra opzione Era più semplice E per cui siete qui Allora Va bene Se avete domande Allora chiedete pure Presupponendo Sappia la risposta Quindi Lan Quella che ci ha commissionato Tutto quanto Ah Va detto questa Commissione speciale Beh Io rappresento Il ministro Di Sono rappresentativo Del ministro Di questo luogo E qualsiasi Commissione Della gilda Non ha peso qui Quindi non puoi Cioè Non provare a usare La sua pressione Su di me Non funziona Non era convincente Allora Insomma Le devi soldi Per del liquore Ok ok Possiamo cambiare L'argomento Per favore Io non mi ricordo Di lui Davvero Chi è Vuoi diremi di più Del Chaus Cosm Ok Se non vuoi Andartene ora Allora Sì libero Di esplorare L'area Un po' Ma per favore Cerca di Non infrangere La legge Devo menzionare Però che c'è Un posto Che ti suggerisco Di evitare Per esempio La grande miniera Al centro Del Cosm Ha un cast Di sette stelle Su di esso Ha un array Di sette stelle Lanciato Su di esso E intendo Esattamente Quello È un sigillo Messo sull'area Dai Quicksing Ecco Chiamiamoli così Mentre per il punto debole Dell'array Il punto pocaio Dell'array Sta nelle chiavi bedrock Ci chiamo a minecraft All'improvviso Attorno all'area Quindi dobbiamo romperle Cioè Non dobbiamo romperle Per non poter entrare No L'area attorno Le chiavi bedrock Hanno visto Un'enorme quantità Di Di Elemento Geo Come se La cosa sotto Cerca di emergere Rompi tutto Massimo Mi dicono Ci sono i sigilli Quindi lascia stare Aiuto Rompiamo i sigilli Per entrare Nel dubbio Rompi tutto Assolutamente Non riesco a resistere I gamer non possono resistere Del non rompere niente Quindi ripeto Non E Non Andare vicino All'area delle sette stelle E non pensare Di scendere Ad esplorare Le chiavi bedrock Non stanno perdendo Sicuramente Integrità strutturale E l'area circostante Sicuramente Non infestata Da Qualsiasi Strana Convergenza Geo elementale Ma Dai appena Non so cosa vuoi chiedere Non ci sono tesori preziosi Lì sotto E nemmeno fossili Importanti E non so cosa pensiate Di Che ci siano Antiche rovine Per favore Non Non pensate Che ci può essere Qualcosa di utile In modo inquieto Dice Tipo Super Suss Sospetto Dai Neanche funghi Crescono lì sotto Neanche pietre Che esprimono desideri Non ci siamo motivi Per scendere Su Sì sì certo Non serve essere Così aggressivi Bene Paimon Andiamo Sì andiamo Non ho finito Ti suggerisco Di parlare Con Shikyong Prima L'avventuriero Assunto Dal ministro Lei conosce La geografia del Cosme Come il letto Della sua mano O il palmo Della mano Ah il Back of Their Back of her hand Il letto Della Il letto Della mano È questo Ma in italiano Diciamo Il palmo Della mano No O si dice Il dorso Della mano Dorso Non dorso Non uso da tempo Questo detto È dal dorso No no È il palmo È per forza Il palmo No Conoscere Come Il palmo Della mano Esatto Dorso Della mano Non l'ho mai sentito Esatto Cos'è Cos'è Il dorso Della mano Si dice Il palmo In inglese Però È il retro Della mano Il dorso Poi dipende Il retro Dipende Da che parte Lo guardi Effettivamente Lasciate che vi Diano una certificazione Così sa Che siete degni Di fiducia E dove Sare Shinchuch Che non è la persona Che ha problemi A stare ferma E sicuramente Non vuole Annullare Il sigillo E guardare Sotto terra Quindi non c'è modo Che Sta parlando tutto Nel negativo Per dire La cosa opposta Che sta dicendo Non c'è modo Che farà mai Un team di avventurieri Assieme per entrare Coraggiosamente Nelle aree pericolose Quindi dimenticati Di chiederle Un aiuto Per entrare Nelle miniere Sì Capito Comprensibile Adoro le emoji Che tira fuori Guardian Cioè ma Io Fai il chasmo Anche tu Io Ben vado Di salutare Vedo che sto Coinvolgendo più gente Io Anche io faccio il chasmo E' la prima volta Che ci entro Quindi sono un po' Intrigato Ecco Spero che a quanto pare C'è un po' di diplomazia Da fare Per andare avanti Indietro Oh Ok Quindi devo buttarmi Ora Buttarmi Oppure Scendere con calma Le scale Insomma Hanno fatto per un motivo Le scale Usiamole No Per sicurezza Non vorrei farmi male Buttandomi giù Ecco qui Ora si ragiona E possiamo anche dare un'occhietta a sigillo Per vedere se si può in qualche modo rompere Mi sa che siamo qui apposta Vediamo quanto ci metti a sorpassarmi Beh io In streaming penso farò tutte le cose con molta calma Eccola qui Ciccio Ciongo Com'è Ah si tu ciao Mooning mi ha presentato Questo è il documento E' il foglio presentazione Si si lascia stare quel foglio di carta So già chi sei Quei è il mooning Mette Da sempre Arie E scrive fogli Tutto quanto Dove seguire le procedure E quella roba Sai La roba che ti fa sembrare importante Vabbè ne puoi importare di meno In ogni caso Il tuo nome è già ben conosciuto Ah sono così famoso Certo Molte nuove reclute Conoscono già la tua avventura Dragon Spine Ah nella montagna Include me sai Che tenera Si mette a fare la posa Con le mani qui davanti Perforavi Il freddo Per farti strada Scoprendo Tempi antichi Sotto il ghiaccio Raggiungere la cima pericolosa Confruttare la grande sfida Le cose che hai vissuto Gli ostacoli che hai superato Le verità che hai scoperto Possono essere risulti In una sola parola Avventura Lei le voglio già bene Lei sa Che usa lo spirito Dell'avventura Vera avventura Ora quindi c'è anche La vera avventura Mi piace Ci tira un screenshot Ok Esattamente Wow E' una shock per Paimon Siamo davvero così fantastici Certo Paimon Senza menzionare La grande battaglia Che hai avuto Col mostro del mare Sul palazzo di Giada Ora non ero di a guardare Ma non mi sono preso Una singola narrazione Di quella storia Quindi ci sono storie Anche su di noi Certo Sono popolare in città Sai Non sono familiare Con la tradizione Di narrazione Non preoccuparti Lo stile di Iron Tong Non è per tutti Ma per l'ISU Ci mette un po' A partire Sai A volte Sei lì per due ore Prima che comincia Comincia a pensare Oh hey Questa molto carina Molto bella Ok In verità Due ore sono anche Tante per una narrazione Ma poche per un gioco Tipo Triangle Strategy Mi ci sono volute Ben più ore Per dire Ehi Questo gioco è bello Inizialmente Lo riputavo Ok carino Caruccio Dopo tipo 20 ore dentro Ho detto Cavolo Che gran gioco Triangle Strategy Perché ero ancora bloccato O ancora In dubbio Sui combattimenti Che mi sembravano Molto legnosi Per alcuni punti Ma non è Assolutamente così E se intendi dire Che E sai una storia Lascia Non è Una storia Non ne andrà mai o male Lascia che ti dica Se parlavamo di cibo O di bevande Sicuramente S'arriamo andata male Se l'avessimo a volte Coperta per mezza giornata Dicevo Che non ero interessato Nel storytelling Non so cosa intendi Con questa roba Ah scusa Mi sono un po' eccitata È bello che Cominciavo a fare Paragoni Con Con Ciboacqua E simili Senza motivo Era un po' eccitata E non sapevo Se eravate interessati Eh 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 visto che Sia ancora qui Sia qui Inviato Dai Quicksing Ti hanno rivelato Nuove informazioni Sai tipo Non toccare le chiavi bedrock Non c'è niente sotto Il cosme Shichung Non ti aiuterà Sai roba di quel tipo Sì Ma l'ing Ce l'ha infatti detto Beh non ci ha spaventati Eh 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 Infatti Non lo fa Eh Quindi le cose che ha detto Sono vere Cosa intendeva dire Beh Muni è uno specialista Assunto dal Ministro degli affari civili Anche se voleva Anche se voleva chiedere aiuto C'è molta cosa che non può dire A pubblico Ah E quindi Non potendo dire una cosa Dice il contrario Non potendo dire Che ci sono tesori Nel chasm Dice Tanto non ci sono Né tesori nel chasm Neanche un tesoro C'è nel chasm In verità è geniale Come cosa Effettivamente Se tipo non può dire Che la password Per la porta È 379 Basterebbe dire Tanto la password Della porta Non è 379 Insomma È un genio Quindi può solo avvisarci E darci mezzi Per raggiungere il chasm In un modo Molto Secondario In essenza Quando dice Non dovresti Intende Puoi Che tipo strano In ogni caso Anche scritto Il certificato Per cercarmelo La nota che porti Ora vuol dire Che è l'autorizzazione Per viaggiare nel chasm E il fatto che Ti ha suggerito Trovarmi Vuol dire Che dovrei dirti Il modo per entrarci Eh Che modo Confuso Di dare suggerimenti Un'ispezione Sul lavoro Altissimo L'avrei fatta Comunque Beh Vedendo Cosa combina Qui Sì Ma Tanto C'è la cosa Di gestione Di gestione politica O meno O politica Diplomatica Che La Gilda Venturieri Non ha importanza Qui dentro Simili Quindi fa un po' Come gli pare Per ripicca Ecco Mi scusi Mi scusi Anticipo Per tutti I lavori Di copertura Che facciamo Ma abbiamo Buoni motivi Per farlo Mentre la cosa Scavata sotto il chasm È anormale L'investigazione Non può essere fatta Senza cerimonia No Fatta con troppa cerimonia Le persone sarebbero Allarmate È quello che Vogliono Kishing Quindi possiamo Solo funzionare Sotto ordini Non diretti Raccogliendo Secretamente Esploratori Fig Quindi se necessario E se necessario Fermare la crisi Che avviene Qui sotto Quindi tutte le persone Qui all'accampamento Esatto Sono mandate Dallo staff Di supporto Sono tutti affidabili Per la maggior parte Il fatto che Se qui Non è una coincidenza Più di un Big shot Wanna be a big shot Big 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 shot Onestamente Non abbiamo un motivo Di lamentarci Del Del fatto che Pezzi grossi Dei Kixing Kixing Ti hanno già raccomandato Che avremmo preso Di prendere il tuo aiuto In ogni caso È anche detto Che il tuo aiuto È difficile da prendere No Non per forza Il tuo aiuto È difficile da ottenere È vero Faccio side quest Così a caso In giro per il mondo Vuol dire Che ci hanno ingannato Beh Non mi serve Non mi serve aiuto Stavolta Per mettere poster Di una persona mancante Allora perché Non chiedi Qual Chiedi qualcos'altro Questa volta Beh Se potessimo mitigare I pericoli del chasm Tutti i tesori Sotterranei Saranno andati A chi li scopre È un privilegio Solitamente dato I Kixing Dai Kixing Solo voi due Davvero È su un trucchetto Ora È il tempo I tesori di Paimon Ricomincia di nuovo Vedi Il pa Non so Fai la voce di Paimon Il chasm È un posto così grande Immagina Qualche tesori Dentro puoi trovare Va bene Va bene Quindi avete Accettato Presumo Va bene Lo farò per te Paimon Ehe Ecco Eretto Va bene Sentiamo Se vogliamo entrare Dovino trovare Adujuvant Un adujuvant Fatto da un materiale Conosciuto come Lumenstone Solo con quello Possiamo muoverci Nel buio C'è il buio Sarebbe bellissimo Solo quelli con la visione Possono usare L'adujuvant Perfetto Dove lo troviamo? Nel magazzino A sud È ben difesa Quindi dovrebbe essere sicura Torna appena È preso Il catalizzatore Ok È lungo questo dialogo Neanche doppiato poi Però Ah è proprio lì Va bene Non c'è un modo sicuro Per scendere Non c'è la scaletta Non c'è la scaletta qui Ma Ma Allora Piano Petti piedi con calma No Ah Ahia Oh È un mio ginocchio Ok Cavolo Fa più male del previsto Cadere da lì Ma qui dovrebbe essere tutto in discesa Come torno su dopo Cavolo Mai buttarsi da terzi Troppo grandi Ed età Fa male E c'è uno slime nel pozzo Bam boom Per te Te ci pensa Ganyu Ok Cavolo Si parte con le emozioni In questo streaming Eh Oh E qui si dove spuntano Non c'è uno qui poco fa Cosa vogliono rubare Allora ho messo Ma comunque Mona funziona bene Perché può Congelare gente Inoltre Può anche mettere questo qui Che può aiutare a Fare le azioni elementari Ah è già esploso È quasi morta Il fatto è che Per mettere Mona Devo Devo togliere La scudiera Come si chiama Diona Va bene che Il gagno distrugge tutto E basta Ma vero L'aria di cura Ma si Tanto la spamma Quando vuole Ecco qui Direi che la pulizia È stata Effettuazione Questo È il Shichong Di cui parlavo Vero Prendiamolo Bene Nostro Il fatto che Spuntino qui I nemici Non è un problema Vero Oh Soldi Tempo di tornare su Vediamo se possiamo Arrampicarci lì Se la mia gamba Funziona ancora Si ruota dalla caduta E mica aiuta Allora Come salgo qui No Ok so che posso Arrampicarmi Sto letteralmente Facendo finta Che gli scaldi Sono rotte E devo Arrampicarmi Pian piano Con attenzione Per salire Ok in verità Era facile Ecco qui Ah si No qui tanto Non posso tenere Quello speciale Vorrei fare 10 wish alla volta Ma mi sa che Me ne mancano Ancora un pelo Per Per fare Il decimo No Me ne mancano Pochi in verità Si può fare anche Con i side Quest ma penso Lo terrò Mentre vado avanti Siamo tornati Menzoniera Ah Che è successo Nessuno faceva La guardia Cosa intendi Con Ebbene Difesa Ah Non dovrebbe essere Il caso Quando facevo La guardia Il cacciatore Di tesori Non si avvicinavano Neanche Aspetta Chi ha detto Che faceva La guardia Allora Io La Stai facendo La guardia Adesso Beh forza Quell'avventurino Si Stancherebbe Da un compito Così noioso No Ah Vero Vabbè Ha ragione Noioso Fare la guardia Beh Mettendo a parte È il tuo Poco senso Del dovere Eh Sì Onestamente Non so sicuro Di come La chiave bedrock Funzioni Ma poi Cominciai Da guardare In quella Formazione Gio Proprio lì Sembrano Cresciute Del bedrock Del casme Negli ultimi Due anni E le proprietà Sono simili A quelle cose Sotto terra Lo diciamo Perché possono Ottenere Certe Possono Disintegrarsi Sotto L'influenza Delle anomalie Recentemente Si è scoperto Che ha solo buona Energia Gio Lentamente Rodendo la struttura Della chiave bedrock È un fenomeno Ominoso Come se qualcosa Sta Consciamente Cercando Di rompere Il sigillo Dobbiamo Ripulirli Due volte Ogni mese Ma tornano Sempre in fretta Sempre più in fretta Forse Quella cosa Sotto Non si ferma Mai È per quello Che Qui sing forse Vogliono farci Investigare Quindi ho capito A rompere i sigilli Chiaro Questo è importante E questo Anche che c'entra Qualcosa Sì Dove farlo anche Per l'altro Allora Quindi non devo Sare un personaggio Gio Mi basta rompere Questi Meno male Ok Pensavo di Tenere un Personaggio Giro Nel team Ma meglio Così C'è un terzo C'è un terzo Ah Dice Colpirli Ah Ok Sta funzionando Effettivamente Se colpiscono Spara Mi sono Bagato Nel sasso Spara Un No Aha Ah forse Dipende Dalla direzione In cui colpisco Mi sa Molto Gioco Zelda Dove Deve andare Nei sette Tempi E pian piano Rompere Sigili Di una Alla Volta Per arrivare Alla Zona Finale Seppur Ora Desigiliamo Una zona Importante Ma dettagli Non volevo leggere Quello Te volevo leggere No Stupido Cartello Te Hai Disto Cioè Hai Annullato I legami Della chiave Bedrock Sono sicuro Che abbiamo Appena danneggiato Proprietà pubblica Hanno Già Mandato Un report Danni In anticipo Quindi Tecnicamente Le chiavi Sono state Danneggiate Prima Che Noi Arrivamo Non dopo Comodo Ho fatto un diagramma base Che ci mostra Dove Tre Dei quattro Sono Ah Tre Delle altre Quattro Sono Spero Ti sarei Utile C'è Anche la sua Faccina In basso È Bellissimo Beh Facile Scendiamo Giù Facilissimo Il cratere In cerca D'attenzione Sì Poveraccio Nessuno Lo legge Non sapevo Neanche Ci fosse Seppure Dietro Lei Letteralmente Qui Accanto Comunque Bellissimo C'è La sua Iconcina Qui Ok Quindi Scendere Lì Scendere Lì Pare Semplice Basta Seguire La strada Per L'ultimo Non sono Più Sicuro Dove Sia Dopo Che I Minatori Se Sono Andati C'è Stato Un Incidente Nella Miniera Causando Il Cilindro Essere Sommerso Sotto Le Acque In ogni Caso Poi Altri Tre Ci Incontreremo Dopo E Penseremo Poi Cosa Fare Non Vieni No Ero Segnata Fai La Guardia Al Magazzino Ma Per Colpa Mio Quasi Fate Entrare I Cacciatori Onestamente Sono In debito Con Te Per Non Dire Del Mio Errore Potrei Finire In Brutta Situazione Se Scoprono Ancora Le Errande Ok Allora Finalmente Parte L'avventura Dopo Questo Tutorial Possiamo Dire Almeno Non parlo Di cose Astratte Come Enkanomia Che Dicevano Civiltà Strane E Mi Sono Perso E Cominciato Cominciato Purtroppo A Schippare Dialoghi Questo Che Succede Rocce Uniche Una Forma Unica Sembra Collegata Ai pilastri Di roccia Forse Il numero Sul simbolo Ha qualcosa A che fare Con il numero Di risonanze Che deve Ricevere In un Poco Tempo Ah Quindi Dovrei Colpirlo Tott Volte Col Gio Forse E Questi Ok Ok Questo L'ho Capito E Tu Sei Geli 93 Oh beh Ora Sei al Zero La Rocce È Questa No Forse Devo Colpillo Col Gio Vediamo Che Personaggi Gio Ho Ito Non è Utilizzabile Purtroppo A livello Bassissimo Chiuso Lei Noel O anche Lui Noel Ha un Cooldown Troppo Lungo Nick Wang Lei non la posso Ascendere Vero No Lui Nemmeno Lui dovrei E stai calmo È doppiato Non ci credo Quindi se faccio Così Non ha fatto niente Non ho capito Allora Forse non è questo Il personaggio giusto No Devo forse colpirlo Con Il proiettile Gio Che c'è ora Legende Dicono che Sono feriti Rimaste Da una battaglia Antica Quando colpiti Dall'esplosione Da un'esplosione A un colpo Martello C'è noi Ecco Noel Che si prepara Dare il colpo Di grazia Da un colpo Piatto Causano Un terremoto Risonante Ah Quindi ho colpito A questi Io Ecco qui Ah Ho capito Solo Gio Ho anche altri elementi Solo Gio Allora teniamoci Val Dorfin Team Sono io Però Riveliamolo un po' Ah Potrei anche scenderlo Ne vale però Davvero la pena Non posso scendere 90 Lui Dai portiamo Davanti 81 Ma si Non costa niente Ho ancora abbastanza Devo rifarmarli Lo so Lo so Aiuto Noel Mi manca Allora Possiamo anche usare Noel Volendo Ma è un po' Indietro No Eh Purtroppo è un po' Indietro Non posso scenderla Quindi continuerò Però lei ha uno scudo Dai facciamo comunque E ciao michael L'effetto delle live di valdo ci fa scendere Non lo so se effettivamente è un effetto vero e proprio E più Una cosa che avviene all'interno Quindi no Non penso sia completamente adeguato ma Apprezzo l'input Dai usiamo noi Allora È contentissima di Di essere usata È contentissima How exciting Dai Lo scudo un pelo Lo livello Così almeno Possiamo usare in battaglia Perché no È giusto un pelo Livellarla La scenderla Non posso Posso fare così Ok Ora possiamo usarla un pochino L'arma Non è importante Potrei al massimo darle un'arma Che aumenta la vita Ecco così Ah Quasi aumenta la difesa Ah Lei scala in base alla difesa Vero Dimenticavo Non la uso da secoli Lei Scala in base alla difesa Lei Ok Allora va benissimo così adesso Eccola qui Così mi sono perso No ancora niente Ma intanto gli uso ancora Noelle E io no Purtroppo perché Non so perché in verità Ah perché preferisco le reazioni elementali Io Piuttosto di Di Gio O perché non mi piaceva che il suo scudo ha un cooldown molto lungo Ma anche perché c'era un punto in cui non usavo gli scudi ma Ora che sono tornato a usarli All'inverità potrei Usarla di più Sembra molto Sembra utile Per nemici Gio in particolare Cosa fanno quelli? Scavano? Che succede? Un altro soggetto test Non ho messo di giocare Ah Ho messo di giocare In effetti da tempo che non ti vedevo giocare ma Quindi hai smesso effettivamente Beh Fai bene in verità perché Il gioco ruba molto tempo effettivamente Recentemente in verità ho anche io smesso di farmare Perché non era troppo necessario Al massimo velocemente entro per consumare le resine E poi subito esco Non combino molto ecco Non riescevo a stargli dietro Ma sia io Guarda un po' Guarda tutte queste cose da Le quest da fare E in particolare Queste ancora da avviare Ma Vabbè Vuol dire che avrò contenuti pre streaming per i prossimi tre anni Non è per forza un lato negativo Basta non farmare i streaming Quello è noioso I checkpoint sono regalati Ce n'era uno poco fa C'era una cazzo e mezza e mezzo però Usi volentieri le donne? Uso Nei gio Dan Michael hai capito Ok Hai capito Tutte le quest e le storie che sono lunghissime Con tutte le ending Vero ci sono anche le quest simil visual novel Che sono carinissime ma Mi dovrei fare tutte le ending Ti costringe a rigiocarle un po' di volte ecco Ma anche quelle sono carinissime Aia Ma cos'è? È un nemico nuovo Che rallenta Bellissimo Non sono arachnofobico Però mi ha fatto un po' impressione Mentre mi sono avvicinato Aia 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 Adesso che fai? Mi dà comunque il rallentamento Non si può colpire Va bene ho capito Bruciano col fuoco Perfetto Sistemato Era Da risolvere bruciandolo vivo Non c'era altra questione da fare Davvero Usa la difesa Il comando difesa è utile in Genshin Impact Guarda qui Ha solo un cooldown molto lungo Guarda di quelle chiavi Facciamolo esplodere Eh non c'ho clip purtroppo Ma qualcuno serve assistenza Allora Oh buono È anche utile per rompere le rocce Fantastico Bravissimo Noel È più utile del previsto Più Grazie tutorial al Paimon Ma ormai so cosa fare Ah è buono anche per rompere questi Altrimenti non lo dovrei rompere Con Yanvi Ma ci mettere qualche secolo Fantastico Ok ok Noel in verità qui fa Fa un buon lavoro Sia con lo spadone Sia con Con il Gio C'è utilissima Non l'ho attivato Va bene Ah ci sono anche lì sotto Per me era uguale Ci gioco solo per rilassarmi Non ho fretta Beh io Ci gioco principalmente Per vivere esperienze in streaming Almeno per Oh no è già despawnato Per vivere esperienze in streaming Ma anche perché Lo trovo interessante come gioco Sarebbe interessante studiarlo Oh Giocare basta Perché davvero un gioco È incredibile questo gioco Per il semplice fatto che È gratuito E non devi shoppare Io non ho ancora shoppato Ho un pelo farmato ma Tra davanti nella storia non serve È nuova questa Che lì non fa danno effettivamente Per andare avanti nella storia Non serve farmare Puoi farcene anche con personaggi basi Ad esempio Basta tenere il livello del mondo Un pelo più basso Ma puoi farcene anche con personaggi Quattro stelle Come Yangfei Bennett e Noelle appunto Gagno va bene 5 stelle tirano danni devastanti Non posso farci niente Anzi dovremmo usare anche Quella nuova Ecco sapevo Michael Che contribuivi Volevo mettere di nascosto Il premio Ma a quanto pare non funziona Servirà un po' Speravo di guadagnarmi qualche giorno Gratuito di Niente offerte Time to spam caramelle E metterci un limite giornaliero Quindi non sarà così semplice Ecco Sì quanto ho sentito C'è Paimon che è un famiglio adesso Nella tua Campagna Sono Pg Quattro stelle Ma non hai neanche Un cinque stelle Quelli sono Immagino perché non li hai Ma quelli sono molto utili Consigliere di usarli Perché Fa una bella differenza Una gigantesca differenza Infatti ora senza Ganyu Fa il tipo Molti meno danni Oh Cos'è Cos'è Che saltone Va bene È bellissimo il sasso Assolutamente Non mi apri questa No Sarà qui Ha distrutto la barriera con uno scudo È bellissimo E nell'acqua Ci sguazzo Con Dove spuntano quelli Va bene Lo scudo dovrebbe reggere E bastava rompere questo Nell'acqua Faccio cose devastanti Tra Ganyu che congela E E manca E Yomfe che tira Belle vaporizzazioni Bello Un dodicimila è uscito No Sei rifullato Ma hai detto Va bene Torna lei Vorrei vedere anche quanto male fa Così non fa niente Vero 162 Ma si fa così Ah Vero che sono immuni alla terra Con i nemici Ok Come non detto Sono immuni No Di nuovo Di nuovo Cavolo Però rompe bene La mossa finale Lo scudo Ok Volevo solo la cesta Tutto qui Devo togliere la sfida Devo togliere quello che mi copriva un po' Parte di chat La sfida della community Si può anche alzare la chat Si La chat più alta Si Bellissimo È bellissimo Ora posso leggere anche i messaggi più vecchi Bellissimo Bellissimo Non 5 stelle Ma come se fosse 3 stelle Quella avevi Aspetta Il 5 stelle più scarso Chi era? Ho già dimenticato Ok Continuo a eseguire questo Eccidiamoci con la musica nel frattempo Le musiche sono bellissime Ora non c'è niente Va bene Anche qui le battaglie però sono tranquillissime Il fatto è Dove sto andando? Mi sto perdendo Ma è bellissimo Perdersi Bene Questa cosa è? Ok via 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 Quelli esplodono C'è anche un lago qui sotto Ok via permesso Veloce Che quei cosi fanno male Che quei cosi fanno male Aha È salve Lui poteva provare la mosso finale Ma purtroppo Non ce l'ho più Viamo qui Contro dei nemici infuocati Tira danni devastanti Ecco Un 30 mila in totale E non l'ho fatto critico Purtroppo devo ancora Abbildare bene critiche I personaggi Quindi è ancora Un colpo di fortuna Se escono critici E qui c'è una torre Dov'è? Qui c'è una cosa Da attivare È questo Posso andarci sopra? Dimmi di sì Ah No Era quello Penso di no E dove è la torre da attivare? È qui sopra C'è un modo per salire Un modo facile per salire c'è? Il fatto è Mi sono perso l'impressione Devo attivare questo Così vedo tutta la mappa Adesso bene devo andare Se giocchessi a Genshin Impact Togliere tutte le voci Perché? Tutte le voci sono bellissime A parte Gagno che Fa suoni ambigui Ogni volta Quindi devo lasciare in pausa con gli ampi Ma anche qui mi ricordo ogni volta Che la legge può essere Un aiuto o un intraggio Ogni volta Allora c'è un modo per salire Eccola il sasso saltone Il sasso saltone Wiii Funziona E pian piano arriviamo là in cima Con molta calma Mi è bloccato Lì ci sono Cos'è attivare Cos'è attivare lì Perfetto Faccio subito Magari equipaggiando Questo qui Ho solo un utilizzo Vero? Boh Teniamocelo Lo attivare di tutti A tempo Ok Non ce la faccio con lei Questo però Ah Lui li può attivare Ok Era semplicissimo Qui non c'è modo di passare C'è un modo per salire qui Ah Basta rampicarsi Oppure no Visto che non c'è niente Non c'è assolutamente niente Nel senso che Lo vengono l'esperienza Ma no Io penso che i giochi Sano parte dell'esperienza Perché così Conosci bene i personaggi Che dicono Altrimenti i personaggi Sano senza Senza carattere Prendi Noelle ad esempio Se Noelle fosse senza voce Non sapresti chi è Semplicemente Una maid in costume De cavaliere Che vuol dire Invece Quando senti parlare La senti tutta in Che dice Arriva la Cosa dice tipo Arrivo a dare assistenza Ti raggiungo E' bellissimo come Dicono certe voci Tipo anche lei è bellissimo Ogni volta come parla E dice ogni volta Ho voglia Con questo tempo Ho voglia di leggere Un articolo Bene Articolo 157 Lato 52 Dice che Oh cavolo Mi sono dimenticata Che vi succede? Ed è bellissimo Ogni volta che lo dice Perché definisce molto Il personaggio E poi ti rende più contento Quando le incontri Di storia O simili E poi c'è E poi c'è Lisa 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 non puoi Non sentirla Non puoi sentire Sua ara ara E' fantastico Intanto Gagnu dorme A Gagnu Mi piace sempre dormire Per qualche motivo Ok E quindi Sei riparato Devo quindi fare una cosa A catena Ma Non capisco Colpisce quello Falando ad urte Dovrebbe colpire quello No Ma la mia gemma E' entrata in quell'oggetto Vero In base non avrebbe funzionato Ah perché richiede una gemma Questo Ok quello però Non ho ancora capito Allora Solo Val Dovrebbe Pallare nella live Ma c'è anche il Text to speech Quando si fa il sub Anche quello può parlare Allora Dai Ah ho letto Ok ho letto Gagnu In verità Isaglio che dorme Isaglio dorme tantissimo Si E' la sua caratterizzazione Quasi Cosa fa questo Perché mi sta correndo Cosa fa Mi è corso addosso E mi ha spinto via Cosa vuol dire Mi fanno male Mi fanno male Mi stai andascuto Grazie Noel Necessario davvero Qui c'è un po' di casino Mi ha shottata Cosa vuol dire Cosa vuol dire Mi serve più cura Perfetto E mi risusciterei Veloce E se ho uno scudo Non ce l'ho Allora non morire E' morta Dannazione Non la posso più risuscitare Per un minuto e mezzo Vabbè ci pensano loro Vero Non ho neanche le azioni Mettate da fare E' il tuo momento E' il tuo momento Noel E' il tuo momento Non fai danno Ma tanto basta danneggiare Basta danneggiare E' la sua armatura Non fa niente Proprio Yanfei Mi serve qui Altrimenti non lo posso danneggiare Per bene Devo giocare più safe Lo sapevo Quanto ci mette Ancora 80 secondi Senti Via grazie No non lo uccido mai più Ci torniamo dopo nel caso Ci torniamo dopo Chiedo il tizio col martellone E' veramente fastidioso Ma il trucco per battle E' avere un personaggio ghiaccio Nel team Perché lui ha un Non lo puoi mai danneggiare Cioè ci metti un secolo A danneggiarlo Se non hai personaggi ghiaccio Nel team Col ghiaccio diventa facile Ma se non ce l'hai Non puoi cambiare neanche il personaggio Quindi si è obbligato a verlo nel team Ehm Fastidioso Si Allora Mappa Ed è bellina Ehm Altra da combinare Ok in realtà sono Stranamente sulla via giusta Devo fare altro Non serve più fare questo Perfetto Chas con Queo E Gagnu Evviva finalmente Purtroppo Purtroppo Gagnu HP molto bassi Ma in realtà è quella con più HP Perché ho potenziato la sua piuma E che altro Più avanti nel gioco C'è un po' di problema con E' morto C'è un po' di problema con la vita Perché La difesa Ha abbastanza danni fisici Ma questo ha fatto un attacco elettrico Che andava Che ignorava la difesa Tutti gli attacchi elementali Ignorano la difesa Per quanto ho capito Ecco guardate col Con il ghiaccio Ora lo scudo sparisce subito Nel tempio col fuoco E' indistruttibile E' una gigantesca differenza Quindi Non serve a niente A avere difesa Se i nemici Hanno attacchi elementali Che ignorano la difesa E quindi L'unica difesa che hai E' La vita Ma non ha Non ha senso Deve avere 160 16.000 di vita Solo perché un attacco elettrico Ti fa 7.000 Anzi Sei obbligato a usare scudi Perché attacchi elettrici Ti distruggono Lo trovo Abbastanza bruttino In verità Quello Ok allora Per proseguire Devo andare lì Lì sotto Eh? Perché c'è una pietra salto qui? Per planare Forse Io volevo esplorare sotto Vediamo Da quanto ho capito Deve Oh Ah Se ci salto Ah ah Ecco se è un bug grafico Ah 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 qui Bellissimo Vabbè dai saltiamo davvero Ah Direi che voleva che andassi qui Una volta il tizio con il martello Mi ha ucciso durante una cazzi E la seconda volta Tipo che muoi durante le cazzi Non è Eh Diciamo abbastanza Sfiga E il fatto che certi cazzi Non ti fanno Non partono senza dover Non posso Non puoi farle partire senza Con i mici attorno a te Ma solo cazzi Di sai di questa Quanto ho visto Come lo attivo questo? Devo colpito con due oggetti Così va bene Perfetto Devo colpirlo con due onde assieme Ed ha funzionato effettivamente Ah i famosi missing seven Esattamente sì Una statua di lollo È per questo che cominci a giocarci Perché Il gioco è suo No sto ovviamente scherzando eh No so che non ci siete cascati Per il semplice fatto Che non muore nessuno qui Non può essere gioco di lollo Solo per quello Questo cos'è Ah un sasso Giustamente Allora Dove andare Lì Ah qui sotto Ah è bello sotto Prima però mi piacerebbe dare un'occhiata A questa casetta che Ho il giusto presentimento Che non si è abitata Per qualche motivo Ah è È un negoziante Non è un cattivo È un negoziante Ma è È un È È un Cacciatore di tesori È cattivo No Faro un negozio per caso Ok posso Non mi interessa scusa Ah è me in gioco Io pensavo fossero nelle picce a caso Parola di scavi Ah La tuga Ok game over Non toccarlo Esploso Inaspettato Va bene Sembra interessante il gioco Sembra interessante eh Va bene ciao maicola Quando è capita allora Questo gioco mi ricorda molto Un gioco di Zelda Skyward Sword Per qualche motivo Forse è la Eh Magari c'è un indizio La tuga ad esempio è vicino Niente Tipo campo minato La lattuga è un uno Oh la lattuga vuol dire che c'è vicino un Una mina Quindi vuol dire che Oh qui c'è una mina Qui c'era un Una lattuga Non ricordo Vuol dire che qui c'è una mina Quindi qui non c'è Ah c'è invece È campo minato Voglio riprovarci Sembra interessante Sembra interessante Parlato dell'angolino Ok Vediamo qui Perfetto Qui è libero quindi Ferro Che vuol dire ferro Ferro vuol dire che c'è uno su entrambi dati Forse Ok Sto cominciando A capire Posso Posso cominciare a capire Quindi angolino qui Libero Perfetto Quindi questi sono liberi Su questi sono gratuiti E qui c'è una mina vicina Ok Posso anche La devo lasciare La devo lasciare Cavolo sì Questo Libero Quindi questo è libero Quindi anche questo è libero Oh sì Anche questo è libero Anche questo è libero E anche questo è libero Quindi questo è libero Anche questo è libero E quindi qui c'è una mina per forza Ok Adesso che fare Diceva la tuga Quindi la mina è questa per forza Qui dice che ce ne sono due attorno Quindi Quindi per forza è questa la mina Sì Per forza è questa Quindi per deduzione Questa è gratis Perfetto E per deduzione Anche questa Non è una mina Perfetto Ok ok E' divertente E' divertente Quindi questo domina attorno Questa è una mina per forza Anche quella è una mina per forza Quindi Questo Allora è libero Questa non è una mina Quindi E' libero sì Quindi questo è gratis E anche questo è gratis Ok Questa è una mina per forza Quella è una mina per forza Questo si riferisce a quei due Questo si riferisce a quei due Quindi qui c'è una mina per forza Ma purtroppo non indizia riguardo Questo 2000 attorno E per forza questo e quest'altro Quindi questa è una mina Quindi per esclusione L'ultimo rimasto è questo Sì Ce l'ho fatta Ho finito il minigioco Era bellissimo E' un po' mi ha tenuto in Genshin Impact È bellissimo Vediamo se mi dice qualcosa Salve Se lo rifaccio Mi dà un altro tesoro Devo riprovare Tanto è bellissimo Perfetto Una buona partenza Fantastica partenza Eccellente partenza Una carota La carota è nuova Cosa No Penso non c'entri Ed è sempre lattuga Perfetto Perfetti Più perfetto More perfect Questo è libero Ok Per esclusione allora Questo è libero Oh Tutti liberi qui La tua Quindi questo è occupato Ah Quindi per esclusione Questo è una mina Questo è una mina Quindi questo è libero Perfetto Vorrei che stessero fermi però Ormai ho preso la mano Quindi questa è una mina Oh mi sono girato troppo Quella è una mina Se questa è una mina Per forza Questa non è una mina Due Perché due Ma io duplica a volte Forse nella seconda partita Mi aumenta i drop Sarebbe strano però Questo è libero quindi E questi non sono liberi Questo è un po' un azzardo Da fare però Però questa è una mina Ci sono due mine Quindi l'ultimo Dove essere per forza questo Eh Sempre più rari sono Sempre più rari Quindi da continuare È da continuare Di più È divertantissimo Accentamente mi sono perso Nel gioco per Giochi per mobile Di Sliderling Che ti può fare un circuito chiuso Con dei numeri che dicono Le icone che sono vicine Sì per favore stai fermo Toggo questo per non confondermi Parte già con due cose attorno Quindi Devo partire qui Ok Non aiuta Questo Ok Facciamo finta che è di sotto Quindi Provo questo Perfetto Quindi questo è libero Questa è una partenza molto Scomoda Questa è per forza una mina Quindi quella è una mina Quindi Eh Quindi Devo un po' tirare a caso Proviamo questo Cavolo Questo è difficile È tutto pieno di mine Spermi cancelli gli oggetti Restano Ok Non va bene In verità Danno fastidio Ok Particola lattuga Facciamo qui Perfetto Punti di partenza buono Porti di partenza eccellente Partenza eccellente E basta Ferro su entrambi i lati Quindi Per forza questi due sono mine Quindi questo è libero Non lo volevo prendere Questo è libero 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 Tutti liberi qui Quindi questa è per forza Una mina Quindi vuol dire che Questo è libero Perfetto Questi due sono per forza Una mina Questa è per forza Una mina Questo Non saprei se è una mina Però Allora Questo è una mina Per forza Quindi questo è libero Sì Liberissimo Quindi anche questo Quanta roba libera Ok Mina Che è su quei due Questo è libero Mina su entrambi Quindi questi due sono mine Uno di questi due è mina Sì mi piaceva vedere dall'alto Però così mi confondo un po' Questa è una mina Questa cosa c'era? Ah è libero Ah è una mina questo Per forza Questa era qui dentro E c'è una mina lì E lì Quindi questa è una mina Questa non so se è una mina Ma in mezzo ad altre mine Ho l'impressione Questo è in mezzo ad altre mine Quindi attivare Sì 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 Ho preso un mega premio Va bene Ciao guardia Grazie sarei passato Tanto Hai portato fortuna Per beccare il premio finale Non male Allora Tornando a noi Prima però Rivedo una cesta Abbastanza gratis Penso che basti Fare così Un po' di cecchinaggio Gratuito Gratuiti Gratuiti Mi sono incastrato No Piano Piano Cosa Cosa fai Ganyu Dove vai? Chi ha messo il buco Sul ponte? Va bene Dai andiamo avanti Con la trama Ho capito Ci tocca Andiamo avanti Con la trama L'ho colpito Da qui Incredibile Le zone Sono anche ben difese Ben difese Per dire Perché non è così Ben difese Se due Illichu Lo vuol dire Ben difeso Non lo vuol dire Allora Cosa dovevo combinare Ho preso una roccia qui Ma Mi sa che si è già consumata No Ho messo questo qui Dai Eh Ah Devo farlo in sequenza Non posso colpirlo Perché è troppo in alto Devo abbassarla Con quello Questo non lo sapevo Però buono Per un dungeon Che si estende In verticalità Ha completamente senso Eh Fai tu Noel Grazie Gentilissima Oh Dove miri Mira quello Dannazione Ho capito Se non puoi mirare Se non puoi mirare Mira così Ok Ora si ragiona Eh Mori comunque Potevo ucciderlo prima Effettivamente Allora Questo sotto È da fare Dopo Questo tanto È già setappato Quello lì sotto È l'ultimo Quindi direi che posso fare Anche questo Va bene Quindi Tutta questa però Ricordo che è una side quest La storia principale Non è ancora continuata Verità Chissà cosa potrebbe accadere Chissà cosa c'è di storia qui Storia principale poi Ok Facciamo spazio Capito Questo è un po' E se n'è andato Bravo Basta va a chiedere Gentilmente Se ne va Ecco qui Si è rotto Sfraccellato per bene Restano due Ah erano due Sembravano molti di più E l'ultimo è lì Posso uscire Non per forza Ma posso fare Questo Volare Letteralmente volare Però da qui dovrei risalire C'è anche un checkpoint Ehi tu bello Mi accompagni Bravo Mi raccontare un attimo qui Sigilli Gio Non che mi servano più in verità Ogni sigillo Sono tipo 500 mora Con il ratio di scambio Di quello che è rimasto Tranquilli nemici Non sono qui A cercare botte con voi Oggi A me cest base È sempre una cest Da Dove primo gemme Quindi Dovrei aver aggiunto La quota giusta Oh Dove esserci molto vicino Magari tu puoi aver attivato Il checkpoint Ma c'è una cesta enorme Lì È mia È mia È mia Non c'è inizia a discutere È mia Oh no C'è suo zio lì accanto Che è un po' arrabbiato Vero Vabbè Facciamo dopo Facciamo dopo lo zio Lui salta Va bene Va bene Qui c'è una lotta Tra parenti Di parenti Va bene Va bene Non è il primo Non è il familiare Che rovino Quindi direi che Possiamo permetterci Di rovinare anche questa Tanto questo muore Stupido Quello Vuole fare Mi sembra un scudo Grazie Noelle Quello che basta Mi è servito Cosa hai missato Gli è passato oltre Vediamo Noelle Voglio capire Noelle adesso quanto male fa Niente Eh purtroppo Non è neanche buildata in difesa Non è neanche buildata C'è e basta Cos'è quel laser No deve morire bello Oh idea Supporto ai Bennett Oh mi ha dato troppo raro Quell'altro Fantastico Ora con le Bennett Il ghiaccio sul fuoco Fa danni incredibili Proviamo Ah nessun critico Ma è molto lo stesso Oh si deve a me Dieci primo gem Penso che si Sono arrivato Alla quota giusta Magari Magari vediamo bene Il checkpoint Allora E ciao Fado Che posto è? Ehi siamo nel Chasm È la nuova zona E a quanto pare c'è una storia qui Anzi prosegue la storia principale La prima tipo si è obbligato A fare una side quest Che non è male in verità È di sbloccare il sigillo Della zona È arrivato il momento giusto Perché dovrei avere abbastanza primo gemme Per fare il wish O almeno i dieci wish Tornerò a fare dieci alla volta Perfetto Ne ho anche un po' di più Poi ho anche l'achievement Va bene C'è anche un bellissimo minigioco Di prato fiorito Così a caso L'ho sblocato pochissimo Sembra molto figo Perché ho sentito che si espande anche in sottoterra È del grande tipo Un terzo di Liyue In teoria Bene Dovrebbe essere Ayaka Quasi garantita Penso me ne mancano un paio in più Eccola qui Perfetto Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Ed è Ayaka garantita Poi un assai di contorno Che non fa mai male Eccola qui Camisato Ayaka Poi un altro 4 stelle Non mi offendo Mica Eeeh Oh perfetto Va bene Mi hanno ascoltato Non è male Barbara Tei personaggi Bello Questo è garantito Letteralmente più garantito di così Non si può Perché ho preso i 50-50 E ora ho questi impiti Ma va benissimo Barbara Se si può definire così il suo nome Sì Barbara Eh Mi piace Vedete come suona Vediamo cosa fa Non che lo uso più Un tempo lo usavo molto Basta il cooldown E bonus Hydro Non è male Per un team Personaggi Hydro Sayu poi Lei c'era ancora il 0 Che la Yohu Heart Ignora Limiti HP Chiedo a Fado Cosa vuol dire Visto che è il main Sayu Forse perché Il talento qui Dice un limite HP Come Ah sì ok ok Come Come Bennett E come Bennett Ho capito Ho capito Asaio C1 Must build Io aspetto da secoli Bennett C1 Che risolve il problema Ma ancora niente Dovrò comprarmelo Dovrò quella per scendere Perfetto Sì come Bennett Anche Bennett Gioverebbe tantissimo Di quel power up Purtroppo non c'era ancora E non dimentichiamo Lei però Ayaka La voglio usare subito Ma ho l'impressione Che In verità Penso non sarebbe così Complicato A scenderla Vediamo cosa c'ho Ah vero che può andare Fino al 20 All'inizio Vediamo anche come salgono le statistiche Non male come sale l'attacco La provo a usare Al posto di Ganyu Per un po' Seppur Ganyu È molto utile Perché attacca a distanza Mi dà anche Anche il primo gem Perfetto Ah anche lì Buildate increase damage Perfetto Ho sbloccato anche un talento Devo ancora capire come usarla Intanto la scendiamo E poi la usiamo Quando Diciamo È utilizzabile Ma si maxa tutto Dovrei avere abbastanza Per portarla almeno All'80 Siamo a 40 Ma non ci fermiamo mica Aha Ah questi Non ne ho tanti di questi Ma Per un altro livello Dovrebbe bastare Perché The Mage 59 Non poteva rotondare a 60 No Mancano questi E che Donno Team Beh il personaggio Letta in team Giro costantemente Non posso Niente La portiamo al 50 E basta Ok Allora Artefatti quindi Non servono ora Questi sarebbero da scendere Ma con calma Chiede anche questi Che non uso mai E non farmo mai Che dannate un bene Da un altro Come Devo ancora cominciare a farmarli Ecco Prendiamolo un attimo Tolgo un attimo Noelle Allora Ma tanto livello Non conta molto Vero Non conta troppo Conta nei piedi Artefatti E cosa fa l'appello Eccola qui Allora Aiuto la spada Oh come attacca veloce E' bello Mi piace come attacca veloce Senza muoversi Con la spada Qua c'è questa Che è molto per sbaglio Ed infusa da uno spirito azzurro Inoltre si faccia lo scatto Come Mona Quindi mi sarà molto utile Gli attacchi sono infusi di ghiaccio Da quello che so Allora Cosa fa Attacco base Ho questo All'ancia anche i nemici Che fa danno ghiaccio Boh Basico ma funzionale Con C1 ogni ciclo Cura e attacca assieme Qui sei sicuro che Sicuro che fai entrambe le cose assieme Ah perché la bambola Ok La bambola staglio fa sete cicli Quando spawna Ah quindi entri e esci Molto carino Non l'ho proprio però Usata per bene Come support Continuo a usare Bennet Ah è anche un bel personaggio Beh forse se con le tue primi gem Riusci ancora a prenderla Sai Se le spendi tutte C'è una buona probabilità Che la prendi Poco più di 50% Direi Non è tantissima la probabilità Lo so ma Il gioco è così Purtroppo Perché sicuramente Ne hai abbastanza Per fare 90 Estrazioni Poi ne fatti anche Abbastanza prima Quindi Se ne fai altri 90 La prendi sicuro Allora Dobbiamo soffinare Questo visto che è molto forte Perché colpisce Moltissime volte i nemici Però costa molto Molta energia no? Quanto costano Di norma Ecco Lui costa 60 Gagno costa 80 anche lei no? No anche lei 60 E lei 80 Sopra la media Dopo aver usato Ecco Dopo che fai questo Hai l'incantamento E vai più male Non è male E poi a un certo livello Con l'applicazione Dello scatto Colpisce il nemico Ottiene stamina E danno Crio ma È fortissima Come passiva È fortissima Mi sa che non ho materiale giuste Per ribildarla Ci sarebbe quella di Gagnu Ma chiaramente Devo rimuoverla In verità Di nuovo livello Non conta ho detto Penso sarebbe da Buildare Su l'attacco base E la mossa finale La mossa speciale Penso non sia così Importante Altrettanto importante Solo che posso scendere Solo una volta qui Dannazione No vabbè Il livello non conta Se non per le Le abilità da livellare Ecco Ho perso due sayu L'altra volta Yaiyaka Non gioco da allora Due sayu? Ah ok ok Ho letto Ho letto Per qualche motivo Ho letto Gagnu Sayu C'è sempre una episode In mezzo Ok Bender due Gagnu Era strano in effetti Ho sentito che Il suo Livello 1 È forte No? Che faceva? Abbassa difesa Crew dei nemici È da due energia Sì È devastante Come passiva Assolutamente Lei non Le do talenti Gli dovete Fatti base Dai No La rimpiazza un attimo Con quelli di Gagnu Su un attimo Quelli di Gagnu Poi li rimetto Perché purtroppo Non è ancora pronta Per essere buildata Mi sa Questo Qui posso dargli Sempre questo Sempre questo Dai Che dovrebbe attivare Questa la prendo da lei Però E questa Da lei Così attiva La passiva Manca l'ultimo Dov'è? No Non c'è l'ultimo Voglio attivare La passiva La passiva Di ghiaccio Che fa più danno Ai nemici Già congelati Questo andrà bene Dai È di livello giusto Un bello Così non è completamente Inutile Fino al 4 I spent Do 2000 More To get Si 2 Parli di Sayu Perché anche lei ci ha messo un po' No Oh beh No Quei 5 stelle sono infattibili da scendere Solo chi sciopa può scenderli O chi gioca da una ventina di anni Ma a questo punto il gioco è già Non più utilizzato L'hanno abbandonato E una spada Che spada prendo? Energy charge Danno fisico No però lei fa danno Elementale vero? Danno fisico C'è danno fisico C'è quella che è d'attacco Ah Questo peccato non fa sul ghiaccio Ma questa è decente Non posso scenderla Va bene Me la farò bastare No questa è danno fisico Perfetto Perfetto Ti avevo un'occhiata Ora è decente È vagamente buildata Purtroppo è livello troppo basso Vorrei giusto provarla Il gagnolo è scarsa però vero? Non può fare niente Quindi un attimo toglierla Metto uno in piazza temporaneo Sempre il ghiaccio Che aumenta il crit rate Ecco qui Ecco qui Ti conti che volta con Yae? Ah tutti i trigra... Vero! Vero Yae che l'hanno erfata E tutti... Ah io ho speso di per Yae Poi l'hanno ripristinato lo stesso Ma... Sì era un momento della community molto interessante Era una situazione con la maiuscola Vediamola Lei... È serve uno scudo però Perché non ha difese buone Allora Beh Non è male non essendo poco buildata La verità non fa più male adesso Serve il tenso di velo aumentato Spero adesso ha anche... L'artifatto no? Che gli da bonus ai nemici congelati No I nemici criuzzati Quindi ci stava bene Mona nel team Perché lei congelava e beccava ancora più danno critico Cavolo se fa male Voglio vedere ancora la mossa finale però Ma per essere poco buildata i danni mi li fa eh Poi con la mossa speciale è di più Vediamola Non è niente male Non è niente male Anche... Ho anche stato votato la mossa eh Perché fa molto male di base Quindi non so potenziata cosa può combinare Amesso Grazie Ok niente male Niente male davvero Poi contanto che l'arma a livello basso Tarenti neanche livellati Ancora molto talento Noi ti può congelare così gratuitamente Fa così Esce dallo scatto Se non si bugga in giro E ha già l'attacco base che congela Quindi direi che niente male Eh ora con chi vinco però Eh... Te usare Yanfei Ho capito Se la sua spada è ancora meglio La sua spada non so quale sia E onestamente non mi interessa Non mi interessa Cercare il band da 5 stelle Per le armi finali Ecco E' un bel casino altrimenti Ehi finiamola Ti prego tragate quello giusto Perfetto Niente male Ah era una cutscene Siete solo cacciatore di tesori Eh... Andate a consegnarvi a... Alle guardie Non c'è niente da spiegare Eh... Il leader del distretto Chakasm è il suo servizio E' un onore incontrati Waldorf Ma come sei vestito? E' la tua compagna Fluttuante Ehi 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 Sono Pai Monsignore Scusa Ma penso c'è stata Un'incomprensione qui Quindi non siete cacciatori di tesori? No All'opposto Vabbè Non è sbagliato dire Che questa zona E' il covo Dei cacciatori di tesori Dopo che i cacciatori Se ne sono andati Questi Quelli lì Sono entrati A fare come volevano Inizialmente giocavano Ah Prima Scavavano E giocavano a nascondino Con le nostre guardie Ma poi hanno cominciato A rompere I vecchi magazzini Mi rompe il cuore ogni volta Che ti rompe il cuore? Ok Vogliono vendere certi oggetti Di Di incontrabbando qui Hanno Pesso qualcosa qui Da vendere fuori Ho perso il discorso Purtroppo E' per questo Che siamo venuti qui A occuparci Dei cacciatori di tesori E camuffarci come loro Ah ok ok Ora si spiega Quello era molto fa Ci siamo accertati Che il loro leader E' in contatto Con dei fatui Che preparano Commerci di oggetti Pericolosi Il contatto dice Che i fatui Hanno scambiato Molti mora Per qualcosa Che i cacciatori Hanno Scoperto Che hanno Ma tutte le scoperte Sono cibo E necessità giornaliere Comunque siamo pronti Per un assalto Dobbiamo catturarli In un colpo solo E poi siamo arrivati noi Cioè Sapevo che eravate bravi Ma non pensavo Così bravi Ovviamente Siamo qui Per bella prospettiva Siamo qui anche Per un altro motivo Perché si muovono Le carrucole Fuori funzione Per fare Minigioco Ovvero Per fare platform Va bene Queste sono delle chiavi bedrock E non possiamo permettere Che cado nel maio Dei cacciatori tesori Ah Scusate E' colpa nostra Non riconoscervi Un ordine arrivato Per farvi passare Questo tipo E' molto tranquillo Vuol dire che possiamo andare? Solo perché Non vi do colpe Non vuol dire che la legge Non ve le dà Scusate L'hai fatta apposta Quindi Assalto Ostruire I doveri Dei militari Tentare di rompere La rei sette stelle E Permesse danneggianti Anche con la considerazione Dei Mila lit Complimenti Vi offriremo cibo E alloggio Per i prossimi 5-10 anni In prigione Ma è tipo Avete cominciato voi A attaccarmi Vero? Hanno cominciato loro Ad attaccarmi Prendo un avvocato Oh Yanfei Oh Yanfei con me La cellulista di nomi Ma ce l'abbiamo già Yanfei Su Per favore Fammi finire Però Se aiutate Mila lit Secondo la legge Riceverete Le ricompense Anche questa è la legge Di questa terra Quindi Quella battaglia Non era in vano Cosa otteniamo Dal combatterti Puoi trovare qualcosa Lungo la via Ad esempio Un copo segreto O un ripostiglio segreto Dei cacciatori Di tesori È tuo O anche di more Quindi niente Prigione Un tesoro È così Così Bene È un affare Signore Andiamo Un attimo Non so un attimo Di cosa Anch'io volevo andare Hey Listen Sono io a fare adesso Navi Non è lei navi Sono io Secretamente L'avrei comunque usare Perché Da una bella agilità Però Non fa molto danno Ora Però ha un potenziale Incredibile Riprendiamoci Gagno Prossima volta Vedrò di buildarla Bene Potrei in effetti Prepararmi in anticipo Potevo Quindi Ripiazziamoli Questo È tuo Questo È tuo Ancora quello viola Ma perché Non l'ho trovato uno decente Di un altro colore Questo da Potrei Potrei farne Anche adesso Uno Non so Quale Talento Mettergli dopo Però Ce n'era uno buono Vero Qual era Ecco Quando fai una skill Se ho tanta energia Perdo energia E faccio più danno D'attacco base Del 50% È incredibile Solo che è da difesa Questo Non c'è da rifiutare Quello che è d'attacco Però Non è da rifiutare Va bene Cambiamo adesso Questo Questo Boh Difesa Attacco Difesa O Attacco Difesa Crit Damage Non c'è Non c'è paragone Certo Questo attacco No Non attacco percentuale Nessuno è Super fantastico Ma tanto vale Facciamo lo sbustamento Se si può chiamare sbustamento Facciamo Level up in live Di queste cose Crit rate Perfetto Già si ragiona Facciamo così Perché sono stanco Tiriamo quello grosso Anche no No Devo usare Ne siamo due Dai Perché no Ecco qua Così tre livelli gratis Peccato Ci stava il Bonus level up Il moltiplicatore A cosa l'ha dato qui Ha potenziato Non ho visto L'attacco Base però Boh Meglio di niente Questo ha potenziato L'attacco Di base Lo fa Vero Il dolce abbiamo Un altro potenziamento Tempo dello sbustamento Mi piace sbustare così Difesa Inutile Almeno non ha aggiunto Un altro parametro difesa Almeno quello Penso che questa sia Una decente differenza Da quell'altro di prima Quindi direi che Faccio bene a potenziarlo Così Mi turba molto Che non posso metterne Più di sei alla volta Cosa vuol Ma perché Ed è necessario Non poter mettere Più di sei alla volta Come è ancora difesa Ma che stupidaggine Io potenziare lo stesso Perché È comunque buono Facciamo così Ecco è più veloce Ti pego Nell'ultimo fallo bene Il per due ci sta E Difesa Ma com'è difesa È inutile È comunque meglio di quest'altro Ma dov'è qui 46 34 Una bella differenza Con questo però Perdo il bonus All'attacco 18% Ma lo tengo Già da quello Quindi in verità In verità In verità ci perdo Un 12 Un 6% Da bonus attacco Qui Ora che ci penso Perché perdo il set Però tengo crit rate Che c'è già In verità Meglio tenere questo Poi magari Devo mettere un altro set Teniamo questo In effetti Effettivamente Sì E rimpiazziamo anche questo Anche questo potrei Ribellare C'è sto un pelo Seppure poco importante Non Da solo vita Effettivamente Che è importante In effetti In verità Ok Torniamo all'azione Azione Vasta potenziare cose Era noioso Lo so Ci da rompere quello E abbiamo visto Che c'è da fare Un po' di platforming Ho l'impressione Come salgo Ehi E quella bolla lì Cosa fa Peggio per lei Mmm Quella distanza È un po' difficile Aha Invece no Perché Gagnu Può colpire Quando vuole Allora Dovevo stare qui Ma c'era qui a posto Una pietra salterina Una salta pietra Come si chiama Sì Qui Troppo in alto No in verità è giusto Non c'è mai Troppo in alto Ok Era proprio Qui È sparito Era poco più sotto Però Eccola qui Devo fare il platforming Con quelle cose Vero? Scommetto Ah Uno è qui sotto Ci arrivo subito Ah Non spera di nasconderti da me Riempito Ah È Sbagliata Vero Devo prima rompere Quell'altro Ok Però mi piace molto Come È una sorta di puzzle Questo qui C'è Puzzleaggine In Tutto questo È una Puzzleaggine Interessante Mi stupisco Come riesco a dire il termine Senza Sbagliare Puzzleaggine La puzzleaggine È nei nostri cuori Entra ti prego Stamina ti prego Ok Basta Presto Pam Questo è facile Basta colpirne due E se ho fortuna Dove arrivarci in tempo Ah questa mezzare Devo colpire Ho un piano Guardate Guardate Ah Dove mira Ha amminato tipo Da tutt'altra parte Riproviamo Aspetta Un modo figo Per farlo Ho amminato Storto anche qui Questo qui Cosa fa adesso Se sali Cosa accade Ok Non ho mai visto Questo effetto strano Che ha splittato L'aria bonus Da una parte Rispetto all'altra Ok Ora si ragiona C'è ancora uno Dove Dove è l'ultimo Qui Non capisco dove è l'ultimo Sembrava Sto finito Dice che c'è una terza Va bene Cerchiamola All'avventura Mi dicono Ma dove è la terza Non c'è più in basso Non lo mostro neanche Può essere che di tantissimo Devo fare un Mega trick shot Per colpirlo Sarebbe bello Ma ho i miei dubbi Ehi Ma quello E' quella lì Scusate Come è camuffato Ma è bellissimo L'ha camuffato così Ok Voglio tornare su Senti Unica attacca di vento usiamo Ok Allora Andiamo veloci Questo si consuma davvero tanto E' in fretta Allora Fatti usare Bello Ah perché è storto E quindi può colpirlo in diagonale Giustamente La cesta è ancora da prendere L'ultimo Penso che basti seguire la scia No? E' semplice A me E devo fare report Perché l'ultima Non sappiamo dove si trova Quindi E' da impropriare Ok Comunque riguardo Riguardo il ban Oh Intanto cosa è questo? Ah Sì Non è ancora completato Perché tanto mi manca questo Vedete è quasi completo Anche questo Anzi possiamo farlo subito Possiamo farlo subito l'ultimo Tanto Il fiore è importante Come tante altre cose no? I danni saranno meglio sicuramente Ma Non morire di più Ci vorrà un attimo però Hold on Ci siamo quasi Questo in ogni caso Ossuganyu O su Più probabilmente Su Ayaka Gagno un leader Un'altra build Ma intanto Visto che andrà su Ayaka Potenziamolo Giustamente Ok Difesa Non valeva la pena Non valeva la pena Almeno ho livellato E quindi mi da 150 primo gem Niente male Niente male E basta Ho finito Ah No ma aspettavo di finirlo oggi Come sono messo con questi 23 Beh già che ci siamo Ne butterei anche qui dieci di wish Oh Niente legendario purtroppo Xenian Va bene Come vuoi Solo lei? Alcun altro Alcun altro Non mi spiacerebbe Anche un'arma 4 stelle Davvero Può andare Niente E per la delusione Lo rifaccio Wow Oggi sono in vera Di buttare cose Niente legendario Purtroppo Basta che non si viva Altra Xenian E' meglio Xenian A questo punto Ah Perfetto Shunling Allora va benissimo Che fortuna Lei è utile Anzi Lo dovrei rivelare Un po' di più Un altro Tanto vale C'è una decente percentuale No? Ah benissimo Xenian Allora Xenian Cos'è di bello? Slowbake Ah Pyronade più lungo Di 40% Ma dura un secolo Così fantastico Da invece Ho già il 3 lei Rivello di sweeping Fervor Va bene Come vuoi Come vuoi Mi piace bene Mi piace bene Che dice Sono scritto a me L'avventura da secoli Andiamo Mi piace bene Va Molto per lo spirito D'avventura Lui sa bene Questo è un po' di passaggio Tanto vale Tanto vale Già che ci sono Rompere un po' le scatole Da questi poveracci Mi hanno detto insomma Di poter prendere tesori Di questi qui Allora Io non me lo faccio ripetere due volte Tanto Gagnu Devasta tutto Gagnu però può attaccare a distanza A difenza Da Yaka Però Yaka È più potenziale per devastare nemici Con un fracasso di vita Perché le tira Una mossa E li distrugge tutti Allora Qui sopra devo andare Non so se seguire la strada O arrampicarmi Ma Chiaramente Arrampicarsi è più veloce Dopo che questa cosa Si è vista in Zelda Non se ne può più fare a meno L'arrampicata Perché i muri Solitamente sono un bloc Un blocco Un blocco fisico Un muro visibile Ma Zelda è better to the wild Ha detto no Non lo è Eccomi qui In tempo In tempo non so qualcosa però Ah È la zona iniziale questo È da dove sono partito Ho fatto un bel giro Ha Che bello Un bel giro e come Bentornato Le tre chievi bedrock Si sono rotte Shhh Che c'è? Che succede? Ah niente Se Solo la terra Trema Tutto qui Forse Le rocce si stanno Destabilizzando Lo senti? Per niente Tu voli Paimon Non puoi sentire la terra Te Ah Potresti avere ragione È un istinto Da scavatrice Se scavi nella miniera Come me Conosci un po' Il linguaggio Dei sassi Sassi Anche delle pietre Sassi Attento Attento Dobbiamo solo Trovare l'ultimo Andiamo All'avventura L'ultimo è Beh Basta seguire il flusso Presumo Mi Dovrei teleportare E farei un bel salto Voglio vedere se posso Entrare Voglio vedere cosa mi blocca Prima di poter entrare Mi sento ad ora di Carrie Mi sono spoderato la cena Oh Non mi impressione No Può essere Il mandarino Che Ho mangiato prima Questo è buono Questo è buono Magari mi cambio personaggio Perché ci sono due fuciliere di fuoco Ecco Ghiaccio ci mette un secco Alla ucciderli Tiriamo fuori Mona Il destino Certo brava Allora Partirei a fare fuori Le Non so chi fare fuori prima Il pugliazzaro si è Si è spostato Che succede Via da lì Mi serve uno scudo Non ce l'ho Ho un piano però Te le sono piedi Via Mona Mona fai qualcosa Questo Così tiro Dani burst a lui E' così strutto Perfetto Lui è danneggiato No? Perfetto Non lo può anche E però così Cambia, 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 cambia Ok In tempo Rischiavo di morire Corti un pelo Mona Grazie Non basta Ancora un po' Ancora un po' Anche Yanfei? Ok Non volevo farmi beccare però Sta fermate Non scappare E' scappata Ah poi c'è anche quella dietro Ma lo posso ignorare Tranquillamente Non è mio problema E' una mancanza di uno scudo però Ti fa sentire In particolare è qui che mi ha bloccato Ahia Sta fermate So che vuoi morire Vuoi che Vuoi farti abolire per favore So che ti Piace l'abolizione E' una cosa Peculiare Non so che Tu sei in queste cose Stai ferma Mi sembra un'altra C'è morta Damage dealer Vabbè dai Fatta Bastabile un po' Purizzarla Prima che scappi Bene E io lo posso scombare con Mona Eh non è morta Dannazione Ok E si tranquillizzava Mona Hai quello che sai fare Dammi il combo Perfetto Senti Suscitiamola a questo punto Così posso anche curarmi E danneggiarlo prima Faccio mettere un secolo A farlo fuori qui Poi con la difesa di fuoco Ancora di più ci mettere I prismi non mi servivano però Ok tutto questo è per una chest Ma è valsa la pena Perché c'è Niente in verità L'importante è il primo gemme Quindi dicevo sul fatto di Provare a entrare La mappa dice che c'è una fessura qui La posso prendere sulla parola O voglio vedere io La fessura La voglio vedere io Ecco Ecco cosa devo fare realmente Ah è sigillato E c'è anche vento così non puoi stare bloccato Ci sta Eh non puoi scendere Interessante Il vento è gentilissimo Sarebbe bellissimo poi buttarsi dentro Bene Allora andiamo a piedi Senza entrare purtroppo Ma cosa ci vuoi fare Trama Qui dice anche che c'è una fessura ma Chi mi vuole Non ho tempo di rispondere Vabbè chiamata anonima come sempre Qui mi incuriosisce che c'è una fessura ma mi sa che da qui sono uscito O potrei sbagliarmi No forse non ci sono anche passato Bello Non fa male un po' di scoprire zone Sono giusto curioso di qui Ah non è nessun ingresso Sembrava un ingresso ma non lo è Peccato Allora potete portarmi direttamente Penso sarebbe un po' più pratico Giusto un Pellino più pratico Allora che abbiamo qui Ma il campo base c'era poco fa Perché devo andare qui Il campo base dei nemici che ho combattuto Sì Ah è qui sotto Ah ok Ecco perché si illumina Passa oltre il sasso Eccolo No è ancora più sotto E potrò andare lì già che c'era Non ho guardato bene prima di saltare giù Chiamano questi terremoti Il respiro di Aya Ad H Ad H O Paimon lo sa chi sono Deve essere un gigante seppellito sotto le montagne Non è corretto ma non sei così distante Ad H è un re che governava la valle Tiancu I tempi antichi Un drago E' stato confitto da una maestria mentale Ma stia è di un lord of geo E' cos'altro? E' sigillato da qualche parte a Julian Karst Dove dorme ancora oggi A Julian Karst cos'è? Aspetta E' una zona Qui L'ha sigillato qui Ah interessante Non so se è vero E' una leggenda dopo tutto Dovrebbe essere qui Questo promette Tutto quanto Fatti accompagnare Guarda un po' Non basta Tre secondo Ah ce ne sono solo due forse Non ne vedo altri Sembra che i mosti cadono Oh cielo Questi non me li aspettavo Via da lì Quando lo trofa danni di bastante Aia Ma non è meno male che regge adesso un po' Con un pelo di vita in più che Che becca E questi scudi non farebbero male Grazie Gentilissimi Ma io rompono subito però Altri? Un piano Aha E' scritto nelle stelle La tua sconfitta è definita E' già definita nel cielo Sì perché vedranno le stelle In qualche modo Quindi hanno ragione Come? Perché c'è la bossa a lasciare improvviso? Chi va la bossa Lascia un po' esagerato Senti Sta in calma Ecco Forse ora è più tranquillo Più danni? Mi serve un po' d'acqua Oh ok Ora può tornare a stare tranquillo Ho sbagliato Ora torna a stare tranquillo Ma è gentilissimo Stare fermo per me Non ho potuto colpire il tempo Ecco Sta fermo di nuovo E' ribaltato Non chiedo di più davvero Anche metto Yanfei Ma che dopo lo descongelo Ecco qui Basta finiti Non ce ne sono altri Bene così Un po' di silenzio finalmente Allora Finiamola E si rompe Ecco qui Il sigillo è rotto Ora si che si può entrare E chissà che i misteri si nascondono lì sotto Abbiamo ancora ben tanto tempo per vederlo Forte dovrebbe essere l'ultimo Con questo l'array che sigillava il cosmo è sparito Dove andare per un attimo da mooning Non che faccia niente Se non sgridarci In verità Ma è l'obbligo Andiamoci Dai Non è che c'è altro da fare qui Tanto O simili Vi vedi Non stavi facendo la guardia al magazzino Per niente È davvero superato Il limite Come risolveremo questa questione Prendere la responsabilità per Annullare l'array Sei qui Come spiegherai rompere le chiavi bedrock Da un punto di vista estetico Questo posto viene molto meglio Va bene Prendi responsabilità Tu per questo E per il resto Aspetteremo i quicksing Per dare il loro giudizio Non preoccuparti A mooning sarebbero solo le persone A cui non importa Altrimenti Si preoccupa solo molto Non è una cattiva persona Bene Lasciamo stare questa questione ora Quando sei pronto Preparo tutti quanti Per seguirti nelle migliere Lo scopo è arrivare a livello più basso Del chasm Ma parlo è Investigare la fonte Ah si benvenuto Al team di Esplorazione del chasm Se vedrai un po' del tuo tempo Lascia che ti presenti il team Non mi interessa No Prendi anche un po' Nenca un po' Lui è Kidai Uno studente Chiamato da Sumeru In effetti Sumeru Si sa che è una città Della scienza Della cultura Specializzato in minerali e biologia Questo è Jim Wu In carica della sicurezza E lui è Talisi Un bardo da Mondstadt Dio sa solo Perché insistito nel venire con noi Inoltre Forse scoprirai nuovi ideati Quando scendi nelle miniere Chissà Ah ultimo Ahimè Mi lavoro e aiuto E fare lo scout E fare mappe E condividerò con tutti ovviamente Beh per favore vai Alla carucola per le miniere Quando sei pronto Era fatta per portare merci Ma può portare anche persone su e giù Detto questo Visto che hai Deltoplano Immagino che ce la farei anche senza no? Posso anche Tuffarmi giù E come voglio Primo gemme Ora possiamo entrare Che missione è questa? La missione di storia invece? Avremo anche Dopo Visto che siamo già qui Continuerei così Questo dovrà rompere le rocce in giro No? Spero sia facile Visto che non vedo l'altra La prima è gratis Aha Anche la seconda Dai È generalmente gratuito Due oggetti Sì Gratuito E tirchio Posso teleportarmi? Sì Bello non dover camminare Pigrizia vince sempre Allora Dicevamo È tempo di buttarsi O usare la caruncola La caruncola Mi suona più epico Ci vorrà un secolo però Ma non importa Entriamo Start Eh? No Io voglio che scendesse pian piano Non che mi portasse giù No Non l'accetto se non mi porta giù pian piano Io mi teletrasporto fuori e la rifaccio Io lo rifaccio Ciao Paki Benvenuto Casmetta Casmetta è tipo Sì Per dire Il chasm Ciasmetta È l'unica battuta decente Per lo più quasi decente Che mi è venuta Ecco Di più non l'ho trovato Mi spiace Questa rifamiliare Fai attenzione Io sento qualcosa di poco familiare Beh Non potevamo saltare dritti giù Forse eravamo solo distratti Dall'ondeggiare Della carrucola Squalido Abituaci Abituati Sì Io cerco Di mettere Deve mettere più battute Per le prossime live di Genshin Impact Devo prepararmi in anticipo Questa l'ho pensata in Due minuti in fretta Ecco Deve metterci più impegno Tre giorni di studio Per vedere il titolo perfetto dopo Ecco Paimo non annusa niente Ah la mancanza del buon naso Può Metterti a rischio di vita qui sotto Detto questo Stare bene Eh Guarda Le lumenspar Crescono ovunque Mi ricordano quelli che raccogli Eh Alla montagna Eh Dragonspine Solo che sono azzurri Stessa cosa però Perché ti ho trovato pane per i tuoi denti Ah Vuoi buttare anche tu qualche battuta in mezzo nel mix? Vuoi fare come Dione Buttare battute Pessime nel mix già pessimo Anche se non ho ancora Fatta la storia di Dione E' vero è successo? Diamo un'occhiata Sembra che qualcuno ha rubato il tuono di Paimon Ormai Ti hanno rimpiazzata Paimon Guardate gli assistenti Cos'è? Prego Ah ok Una lucciola Però Mi da anche un'animazione Devo vedere Eh Potrei anche buttarmici Anzi Devo buttarmici Voglio fare quella cosa Di buttarmi Che R6 Da sopra c'è il 55 L'ho aggiunto recentemente E penso che per qualche secolo Resterò così Perché ho visto la barra di crescita Della R Ed è tutto Tranquillo E quando arriva il 55 Pa! Salta verso l'infinito e oltre Per qualche motivo E lo raggiungi Se non dopo secoli e secoli Ok Penso è tipo L'ho preso come oggetto Non me l'ho fatto vedere bene però Pen A pensare che l'uman spara Apparisse così vicino alla superficie Ero sempre dell'opinione Che queste cose Non apparissero in posizioni Strutturalmente vulnerabili Sono frammenti Di quella cosa Sotto terra Che viaggia Su per le vene Della terra Roccia Ah non direi stupidaggini È una roccia Della zona locale Ah non sono subito Qualche solita di trasformazione L'analisi dicono che Sono fatti Di minerali Della zona locale Però sono stati Influenzati Da una forza locale E creavano Questi strani locali E poi guardare Iae Perché? No Solitamente Non sono esperto Di building Di personaggi Densilead non l'ho ancora fatto No Infatti La volevo fare dopo Quando finisco questo O prossima volta nel caso Prossimo venerdì Non so che ti perdi E beh Lo faccio Devo fare con calma Non posso fare subito Le cose interessanti Oh Non posso fare solo cose interessanti Purtroppo devo fare anche questo Che anche questo è carino A sé Ecco Più che altro L'esplorazione è interessante Guarda Quel Cristallo Sembra come L'aggiuvante Che hai con te Ah vero Che c'è la pietra Che ho preso prima Che può servire Ed è lo stesso materiale La formazione Ragisce con Contando quella similarità Fantastico Tutto quello che hai da dire Non c'erano altre scelte Paimon Cosa potevo scegliere Non litigate voi due Ma non litighiamo Non stiamo Non importa se combattuto Litigato o meno Dobbiamo fare un campo temporaneo adesso Quindi non correte via Ma io voglio esplorare Ok posso aiutarti a processare un po' di minerali Oh Grazie Spero Tutti lo fanno Gratis E non litigate Non stavamo litigando Paravi ragazzi Vi darò una caramela dopo Ma citati come i bambini Lui ha 500 anni Sai Ricordi cosa ha detto Jinwoo L'ultima volta Del zio È Non ho dimenticato Valdorf Mi puoi aiutare Visto Che zio è È È Chi non è È È È È il senior Qui nelle miniere È uno di quelli che mancava Perché c'è un bandito di sotto Ma è appena Era sigillata la zona Che ci fa qui sotto Come è fatto a scendere Sono subito scesi Ma Qualcuno ha detto caramelle A milfa trigger Bravo fado che spendi caramelle in modo consono Bravo fado Almeno tu È uno di quelli che è mancato Quando i minatori Sono stati dispersi È duodrecchio E poteva non aver sentito Le comunicazioni Le pensioni Le pensioni Sono generose La sua famiglia Ha già gestito il suo funerale Ah ok È È morto Perché non è scappato in tempo Ma anche se non credo molto nel sopranaturale Sento un po' che posso essere ancora vivo qui sotto Era un vecchio È molto vecchio Hold hand Immagino sì Un vecchio minatore Se per evitare disastri nella miniera Come scappare Come aiutare Sapeva tutto Per questo credo che vivo da qualche parte qui Anche adesso Ti dirò un po' di punti dove È stato visto prima di sparire Chissà Potrebbe ancora Eserci qualche indizio Entri a esplorare le parti più profonde Ah sì La tua caramella Grazie Stay safe Sto bene Non sono un amatoriale Non preoccuparti per me Ok Stay safe Ti piacciono i sassi E i sassi sono molto belli Assolutamente Da proprio qui uno Vorrebbe essere un fremalibri Ma tanto Si fremano anche da soli Ecco qui Pesa un bel po' Non so cosa sia esattamente Me l'ha andato per il compleanno A scuola Alla scuola Waldorf Sì La scuola Waldorf È una lunga storia Ma si regalavano cose In quelle a scuola Ogni compleanno Il professor Corretto dal fatto che Pagare una tassa Quindi Insomma Non è che ci vai per il regalo Devi pagare una bella tassa Purtroppo E visto che Dai tutti quei soldi a loro Ha detto Perché noi ricambiamo Con un sasso Per i compleanni E così Regalavano sassi Durante i compleanni Qualcosa di quel tipo Ecco Spero Mettere il primo possibile Lingua italiana Si girava qualche leak Che ci potrebbe essere L'italiano Non Non sono sicuro Se è confermato meno Ma sarebbe molto comodo Seppur A me non spiace Così faccia anche un po' di pratica Ma Quei dialoghi lunghi Sono davvero pesanti In inglese Quindi sì Italiano Sarebbe molto comodo Effettivamente Però dovrebbero tradurre Un Un fracasso di dialoghi Quindi È un'impresa colossale Tradurlo Potrebbero anche Anzi Sicuramente Sono adesso all'opera Visto che È un lavorone Quando è equipaggiato Da l'illuminazione Se ha energia Forse si affida All'ambiente L'E-Line Ah Interessante Ma funziona solo qui ora Certi dispositivi Come la lucciola di prima Possono ricaricare energia Perfetto Forse qualcuno Dell'esplorazione Può potenziare il suo potere Ah Dice che si può forse Spavor appare Va bene Equipiamola subito Ho sentito C'era un suono Un suono del tipo Come Come se Ecco Come il ghiaccio Che appare a Dragon Spine Leggerissimo Vediamo se posso ricaricarlo Sì Infatti faccio luce Ah Bello Ah bellissimo E non posso ancora usarlo Bellissimo Cioè Luce ora non serve Ma più avanti Presumo Sarà necessario Vedere Ora è inutile Fare luce Oh Però è utile Per ricaricare altri oggetti Come l'hom detto Ci sono indizi Che dovrebbero raggiungerla Quando tolgono la zona nuova Ma questa non la tolgono No Musica nuova Bella musica Vabbè Vabbè Parte misteriosa Ma Bello che mettono musiche nuove Continuamente Vedo Sto già morendo Devo ripendere Diona Qui O per me a congelarlo Così impara Ecco ora Puoi stare tranquillo Per favore Vado a fare le mie cose Non disturbarmi Per favore Non ripendere l'armatura Ok Molto Non ascolterò tutta la musica Ora Ma con calma Allora Volevo riprendermi L'ora veita No ma è male mona Perché posso Permafrizzare i nemici Lavoro in veita Usare con 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 Ayaka Però Non devo ancora Ascenderla Quindi non posso usarla Cos'è questo? E' una barra sotto Ominus Eh Ominosa Macchia Nera Gli italiani Vuole i pigri Non lo faranno mai Ma proprio per il fatto Che gli italiani Sono pigri Sono anche pigri Dal tradurre Quindi Genshin Impact Non può avere Un buon mercato italiano Finché non traducono Effettivamente Il pigro Bilancia il pigro Effettivamente Io lo farei Cosa? Traduzione? Sì Purtroppo serve più di una persona Perché una persona da sola Non ce la può mai fare A tradurre tutto Neanche se un madrelingua inglese O un madrelingua italiano inglese Entrambo Entrambi Un bilinguale Ecco Perché Fisicamente È un lavoro in mane Cioè Solo qui Ci sono tantissimi dialoghi E tradurre solo questi E un'impresa Guardate Solo questi Senza parlare di Un NPC solo Allora Questo toglie vita E Influisce la mobilità E assorbe anche La tua luce E i nemici sono più forti Su questa nebbia Ma è carino Questo Ho già detto Perfetto Però non perdo vita Ah Quella barra è la mia luce Ora ho capito E questo però Ah Cos'è Un strano Tumore Cresce In mezzo Alla Melmanera Ha diversi livelli Di emissione Solo una gemma Di potere Suficiente Può distruggerlo E io Come Ecco Mi serve Distruggerlo Presumo Per prendere Il drop interno Posso Ricaricarmi Ah Infatto È Me la scarica Se vado qui Dico Me la rompo È già scaricato Si scarica Subito C'è una piccola barra Sopra la vita Minuscola in verità Ma c'è Ma si scarica subito A quanto pare Non avrebbe senso fare pubblicità al gioco E non mettere traduzione È vero che in italiano effettivamente la fanno Ne ho viste un paio su youtube Mi sono anche fermato a guardarle perché ero curioso di vedere come le pubblicizzavano In modo No Aspetta Voglio parlare della pubblicità che ho visto di Genshin Impact su youtube È in italiano credo Ed era tipo Già il fatto che lo sponsorizzano parlando di multiplayer C'erano due persone Un uomo e una donna Che giocavano assieme Ehi vuoi giocare con me? Certo Giocavano così premendo i tasti E si divertivano così Quando invece il multiplayer Si riassuma in farming In multiplayer Si fa solo farming Quindi che divertimento c'è E fare multiplayer Che senso evitare amici a casa E dirgli facciamo multiplayer di Genshin Impact Farmiamo su Genshin Impact Non ha senso La pubblicità non ha senso Ma è bellissimo vederla Passiamo a te che la trovo potrei Purtroppo le pubblicità non si possono condividere Non sono salvate O sono salvate ma non via video Posso accenderlo? È facile Basta avvicinarsi Ho fatto il giro Ah Devo andare Qui Devo andare lì Non ho mai visto la mappa Oh cielo Oh cielo sei enorme Ah E c'è anche un boss così a caso Per gradire Ah Ruin Serpent E per droppare questo Che presumo lo usa Aia 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 to Visto che non è uscito Nessun altro personaggio dopo Allora Qui E questi treasure order Sono già arrivati È una cesta È bloccata Devo consumare la mia energia Per aprire il chest Cos'è sta roba Davvero Seriamente Questo invece Brilla Non è che se la rompo mi dà energia Rompiti per favore Sì Mi dà luce Bella meccanica in verità Intrigante Che si potenzia anche più avanti Dandogli più potenza Più energia Stava andando Maledetto Non che serva Adesso Ma lì c'è altro C'è ancora Nincuna su mappa Di una pietra al centro Chissà cos'è Ah L'ho già fatto Ho visto un diario Che non posso leggere Perché c'è gente qui Che è arrivata Tipo adesso Che ho appena rotto il portale Date calmi voi Potrei anche congelarvi un po' Sarebbe carino Se potessi mirare Tanto muoio lo stesso Quindi congelarli o meno Non fa le facce di fai Ecco stai giù Prova Allora Stavo dicendo prima Che questi mi interrompessero C'è un oggetto qui da leggere No ok Questa cosa è più importante Non so perché Però parlava di Magma nero Ah no aspetta È di trama questo È di trama Quindi Forse era da leggere Anche l'altro era Non me ne sono accorto Ups Allora c'è questa icona Cosa vuol dire C'è una pietra lì Ah Avevamo da raccogliere No Ui L'uomo e spar Ne ho presi due Me li insegnerei Un lume culo Lo chiamerei Come il geoculus Geoculo Electro Electro culo Era Anemoculus Ok Anche qui Preso Perfetto Così mi ricordo È lì visto qualcosa Ci sono già Qui non l'ho visto Anche questo è da ricaricare Interessante Oh lo devo pagare ogni volta Ogni volta devo pagare per attivarlo Seriamente Dove prosegue Dove prosegue la sfida Dove Non lo so Ricarichiamoci e basta Dove erano gli altri Qui Ah lì Chi l'ha visto Devo arrampiccarmi Eccetera Ah facciamo di no dai E c'è anche lì uno spirito Che Non è blu È violetto Tra un po' Chiederò anche a mio nonno Di fare pubblicità al gioco Non credo sia una buona pubblicità A vedere i vecchi giocarci Sai Adulti È comunque Ci può stare Ma anziani Sarebbe strano ecco Ti pare salire qui Grazie Questo qui cos'è È Multicolore Bello E qui c'è l'ultimo indizio Il magma nero Esce dalle profondità della terra Non so se chiamarlo magma Meglio non avvicinarsi Ho trovato anche strani funghi Non sono certo se siano commestibili Il magma sembra avere attratto Forme vitali Se possono mangiarlo Forse lo posso fare anch'io No Qualcosa non va Meglio andarmene Per me abitui i funghi In verità non sono così pessimi Sarebbe buono spostarsi dove crescono i funghi E fare il campo lì Ah magari è davvero vivo Magari è davvero sopravvissuto Interessante Ah se puoi reggere Quella cesta non vale la pena Ok In suo avviso Siamo qui Combattiamo Guardate il spazio per favore Devo congelarvi tutti Gentilissimi Mi tol No Non ha il bonus Il danno contro i congelati Non ha tutti gli elementi della build Meccano comunque un po' di danni Cioè non cambia Muore lo stesso Non che deve pensare in modo ottimale Per ucciderli prima Ok Sono tranquillizzati Tu dove mi porti di bella Magari anche lui ricarica la luce Sarebbe carino Ah mi fa fare il giro Tu sei un po' stato separato dal gruppo Mi spiace Mi lascio un po' soletto Oh dovrei soffrire Senti i tuoi amici Ahia Anch'io soffro un po' Ah c'è anche il suo compagno E' mai tardi la festa belli E' già finita Abbiamo già Preso tutto Tutto Abbiamo shippato I I shippatori qui Vabbè un drop singolo Non lo prendo Quindi ho fatto il giro solo per Mettere questo lì Oh dove? Lì Ecco Ecco Contento? Perfetto bravo Mi fa anche un'area Magari ti ripristina la luce Questo è facile Questa è la chest più facile di sempre Quindi è tempo di tornare su Devo fare una cosa però Devo Buttarmi giù Col cavolo Usare il teleport Salendo su Una piattaforma Io voglio il bimbo Di saltare giù Quindi Devo rifarlo ora Visto che Tanto devo comunque tornare su Eeeh Via Ok Dopo siamo un pelo più epico Ma ecco qui E non siamo atterrati Ma come? Volevo atterrare io Ma Ho trovato tutto Si è tornato Lo zio Ha lasciato questo dietro Mi ha schifato un dialogo Black magma Funghi E pietralume E strane familiare Togliamo l'accampamento Ma io stavo appena cominciando ad esplorare Oh Bello il petto luce Cioè Mettono Ci sono anche le ombre qui E' curato l'effetto luce Beh giustamente Tutto il resto Ha le ombre Perché non dovrebbe averlo questo Basta mettere un semplice effetto luce Davanti al personaggio Ed è fatta Su Allora il campamento E' questo all'improvviso Questo? No Dove? Dove voglio andare? Lì Ah E chi ha visto che c'è qualcosa? Va bene Buono che Ciò Beh Oh Sì Salgono i filzi di subnautica A vedere Un modo sempre per scendere in profondità E' così buio qui Sono queste le babbini rocks Sì Quelle che esplodono L'abbiamo visto Che c'è? Qui torno indietro no? Però c'è una gemma Dove? Qui sotto? Di sopra? Più di lato? Eccola Dai dimmi che ce la faccio Sì perfetto Se neanche questo Non so ancora cosa servono Ok Qui sotto c'è qualcosa Ma ci potrei andare dopo Anche perché Pensa dire Sembra devo fare un po' di platforming Quindi no Ma donna la salve Vuoi attaccarla Perché dovrebbe droppare soldi Ah la posso uccidere Ok penso fosse qualcosa in più E dice anche che posso prendere questi Vabbè Lo so Dove è l'accampamento? Oh cavolo Quante ramme la zona È bella grande È un checkpoint Mi serviva Effettivamente Stattemi un secondo Perché sento Un po' di mancanza Di framerate Per qualche motivo A volte mi sta saltando A volte mi abbassa un pelo Il framerate Chissà cos'è Chiedo un paio di cose Non necessarie al massimo Non ne ho Vabbè eccoci dai Ho chiuso una cosetta a due Al massimo Per curiosità Come saranno le mie Condizioni grafiche Medie Low Sarebbe un po' brutto Farci streaming Numinosità direi che Va bene starci nella media E PS 60 mambenone Di più no Non servono Ok in verità Era momentaneo Ottimo Comodissimo Ricaricarlo Così dopo posso Usarlo quando voglio Ok Anche questo è preso Allora dicevamo Campo base Bello Campo base Vuoto Non c'è Niente di Base In questo campo Non c'è niente di Campo in questa base Dove è cosa Shin Chong Shin Shin Chong Shin Chong Ancora da qualche Altro Angolo Di questa mappa Per fare le mappe Di questa zona Per fare le mappe E' nei guai? Non ancora ma se corre Senza informarmi Lo sarà breve Ha fatto questo Prima di andarsene Ah mi darò un pezzo Di mappa No Dille che Dovrebbe smettere Di lasciare tutti dietro Se qualcosa di brutto Le accade Finiremo tutti Come lei Il pugno di Jinju Non ha pietà Te lo dico Suona spaventoso Va bene Meno parlare Più fare Puoi aiutarmi qui O puoi andare a fare Uno scout avanti Scusa se non sono In più cortese Voglio solo Fare la cosa giusta Per essere utile A tutti quanti Ah si Se vedi della Lume Pietralume Cruda Row Lungo la strada Portala da me Dovrei modo Per renderla Più efficace Finché la mia esperienza Mi dice Queste cose Saranno molto utili Lungo le miniere Ok Quindi forse Può essere Che darei Potenzio Ok Immaginavo Che dasse un pezzo Di mappa Ed è oscurato Bello L'ho sbloccato Sì Per offrire Pezzi di lume Per Potenziarla Presumo Vediamo subito Definiamola Vediamo Ok ma 8 me ne servono Già per partire Incredibile Mi dà anche Oh mi dà anche Le belle ricompense In verità Una corona mi dà C'era Se d'orbi interessanti Mi dà anche un Cavolo Questo è fortissimo Vuol dire che ce ne sono Moltissimi in giro Da prendere Va bene Subito Appena trovo 4 Torno subito Te racconto vuol dire Allora Quindi niente ci blocca Da andare All'avventura Immagino Cavolo Enorme la zona Contando poi Che ha più dislivelli Potrei puntare a questo Checkpoint Intanto Non sembra Malvagio Quel checkpoint Dovrebbe essere Proprio Un piano Ma non so Quanto possa funzionare Facciamo un tentativo Sì funziona Sì funziona E ora non può cadere Quindi direi che siamo sicuri Con lei Geniale Preso Quindi Lume preso Bene Questo è il checkpoint Più facile di sempre Non caderemi ora Ok 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 Era facilissimo Luce ne ho ancora Presumo Ma questo Non l'ho mica attivato Quando l'ho attivato Buon per me Forse la luce Non Cosa vuole quella Lasciami stare Lasciami stare Non voglio problemi Neanche tu li vuoi con me Fintati Eh qui sarei lì sopra Dovrei salire lì È necessario poi Tanto lì mi ricongiungo Con il lato destro No? Quindi in verità Potrei salirci E comunque è bello esplorare Cosa ti Dove ti incastri? Dove ti incastri? Non mi ha visto Sono acqua Aia Sono acqua Non può colpirmi Vabbè dai Forse può Ah qui sono ben distratti eh Buon per me immagino O peggio per loro Entrambi Aia E tu mi lanci bottiglie d'acqua Non ho sete grazie Anche se in effetti è importante idratarsi Dovevo combinare adesso un po' di idratazione L'ha stato valuto sempre purtroppo Prima di fare lo streaming in effetti sentivo la gola secca Quindi Non avevo Non bevo molto purtroppo Devo recuperare E' grave come cosa Screenshot Qui c'era anche Dove era? Lì Uh Delicata come situazione Cos'è? Puoi cadere lì davvero? Ah Non me l'aspettavo Dove sono finito? Cadere lì non è proprio Ideale Allora vai con calma Così è meglio Ok Allora Come sono finito in questa situazione? Come fare adesso? La vedo un po' complicata Così Allora l'incirca può andare L'ho un po' salvata Ok Altro lume è preso Oh cielo Devo usare queste qui? Ho le spreco adesso Allora dove volevo andare poi? Dirà si proseguiva E sono giusto curioso Seppur non è il lato giusto da esplorare Ecco c'è qui per terra C'è qualcosa che evidenziava È evidenzato qualcosa Ho visto Strano Ah bella 21 in zone non mappate Intrigante senza dubbio No slime Tu non sei intrigante Scusami Questo è gratuito Fantastico E la maniera si fa sempre più viola Interessante Mi manca un lume vero? Ne ho 7 Su 8 Qui non devo andarci vero? Proprio no Ho perduto luce E questi sono cristalloni molto grandi Non li ho mai visti così grandi Vero? O forse si Però sembrano dare Ah perché sono luminosi Sembrano dare più dropper Danno luce Più che altro Penso Tanto bruciatevi tutti Grazie Buoni per potenziare armi Senza dubbio Non posso fare il giro No Posso Ma direi che Perdere un po' di luce Anche no Amici potenziati Non mi ispira la cosa Sono pericolosi Dove sto finendo? Io ho dovuto andare indietro a esplorare O andare per via giusta Vero? Ho questa impressione Però mi intriga l'avventura qui Mi manca ancora un lume Ed è fatta Manca un lume Oh perfetto Perfetto Ho tutto quanto quello che serve Lume E c'è E c'è E c'è anche il boss Potremmo combatterlo In verità Ma si Possiamo anche combattere il boss Già che ci siamo Sperando non uso la meccanica della zona Anzi facciamo così Se proprio uso la meccanica della zona Avrò La batteria potenziata Non penso Lo faccio Sarebbe forte Bello Lo facciamo così Ecco qui Ora può avere fino a 3 d'energia Ah Gli serve anche un minerale Questo non era previsto Dove lo trovo? Intanto è ricaricato? No Ci penso ora Ted and Pankies Un piccolissimo suono Poco impercettibile Poco percettibile Quando ricarica Bellissimo Allora dicevamo Il boss Eccolo Uh Mi ricorda Un mostro di Monster Hunter Sembra bellissimo Dai così Risolviamo anche il problema della resina Che si sta accumulando senza fare niente Scavatore Schiavatore sigilip Chissà cos'è Una macchina della forma bizzarra Creerà No Della melma E tenterà di prendere potere dall'oro Sotto certe circostanze E farà attacchi devastanti Ora che ci penso Non ho lo scudo Usa la luce per distruggerli Dopo che quattro li ho rotti Entrano stato indebolito Ok Ritirata strategica Per due motivi Primo Non ho lo scudo Secondo Non è potenziata Luce Bello che usa la meccanica Ma non sono pronto Vuol dire Cosa vuoi Non è il momento di dire l'insolenza Sai Allora Una gemma è lì Come la dovrei prendere quella Come la dovrei prenderla E sono incastrato Aiuto Ecco qua No ancora uno No deve essere contemporaneo Oh deve essere veloce Penso veloce sia la soluzione Facciamo magari da qui Un colpo solo Non c'è un quarto per caso No Dai per forza c'è un quarto Se no non capisco Ah forse c'è un ordine No si spengono dopo un po' Non capisco allora Come dovrei fare Come dovrei fare Si spengono subito Forse c'è un potenziamento Comunque C'era una cosa qui sopra Dov'era? Lì Come cavolo dove prendere? Ah c'è un'altra però qui sopra O qui sotto Qui sotto bene No non è sotto Andiamo comunque sotto E' sempre un minerale che può servire Dove miri? Perché miri lui? Bennett fa farlo tu dai Almeno tu sai dove Puoi circa mirare Molto circa va bene Ok con calma ce la fai Bennett Lo so lo so lo so Allora Ignoriamo liberamente Non sono necessari Vediamo anche un bel luccichio lì Ma vabbè Non incastrarti di dannazione Cos'è questo? Ah mi dà luce e basta Ok Ci può stare Potrò prenderla dopo Ma va bene Tanto ci sono vari modi per ricaricarla Presumo Ehi questo cos'è? Eh Quindi Scusa Sei una mossa elettro per caso? Aspetta Questa è Una distruzione visibile In cano mio Quindi devo cambiare notte giorno Qui non si può Tanto mi servono qui Ci sono Mi tirano due curette Allora Ok già meglio Quindi questi Fanno anche sentire Quando li colpisci Ma cosa serve? Devo colpire con roba elettro? Non capisco Probabilmente Proviamo Ciao Firelight C'è la difesa? Difesa? In che senso? No Anche se in generale No Genshin Impact La difesa Ma non è utile La difesa qui È diciamo Prattamente inutile Perché solo per gli attacchi fisici Come le RPG Ma non ci Non c'è modo per difendersi Dagli attacchi speciali Ecco Devo usare forse la skill Va bene Niente Quindi sì C'è ma inutile O se è utile Dove solo per certi personaggi Perché solamente Ha un'abilità Che scalano con la difesa Ok meno male Che c'è un caricatore qui Però non so dove cercare Non so dove guardare Forse questo mi dà Cristari nuovi No Vero No Solo Noctilus Jade E non è male lo stesso Ma non cercavo questi Dove andare di sotto Cavolo se devo scendere molto Bellissimo Magina dovrebbe essere Ah Non l'ho vista Come non l'ho vista Ah riproviamo Intanto posso planare come voglio Anzi No Prendevo tenermi la luce accesa Volevo equipare qualcun altro Qualcos'altro L'ho vista Ecco Non so come non l'ho fatto a vederla Sarà che non guardo mai in alto Penso sia il motivo Così E purtroppo ho anche finito i flussi per Ascendere Non i personaggi Senso prendere la corrente per Ah non serve c'è questo Anche troppo in alto salta Ma va bene Bene Non ho perso il conto ormai Lume preso E quindi il gioco vuole che proseguiamo di lì O la storia del gioco Ehi Due in uno L'ho missato? No Ok Grazie Sono Molto generosi A riguardo Io non mi lamento Anche se manca Quello speciale Che non so dove si prende Mi sa che dovremmo aspettare Di c'è una cassa grande Vero? O sbaglio? No È una comune Che delusione No Non mi interessa Noioso Ah qui si può anche risaltare Ma non ci serve vero? Quanto saltano È fantastico Ah qui però potrebbe Ah è per tornare su Dove puoi fare parkour per tornare su? Vabbè Ignorare gli oggetti Su Non servono Ehi come va? Non ti sei persa vero? Se tu vai al Dorf Sei qui Cosa fai qui? Non te l'ho detto Studio il terreno E facci la mappa È che la via È bloccata Da una roba strana Se puoi prendere campioni E farci foto Sicuramente il ministero E la gilio avventurieri Sarebbero contenti L'avrei fatto io Ma ho perso la camera Mentre scendevo nelle miniere Posso fidarmi a te ora Eh E ci sono altri punti Sì Qui e qui Ho trovato tracce Di cacciatori di tesori Nelle aree Scusa Che posto siamo? Pai ma non ti ho capito Ah scusa Abitudine Dimentico Che non tutti sono nati Con un istinto naturale Di cartografia Ma è vero Ti segui Ti mostri la strada Possiamo avvicinarci A quelle posizioni Quindi Scegli quella che vuoi Ok Andiamo Avventura Stai tornando tu personaggi Nelle parti? No Purtroppo no Perché È scarso In breve E poi Ora uso un team Che Se ne manca uno Si sente un po' la differenza Nel senso Di una forse Si può anche non usare Ma Gli tutti sono buoni Gianfai è buona per Perché ci serve sempre un avvocato A chi non serve un avvocato carino Dopotutto E il ganio è quella che fa i danni Anche se breve verrà Rimpiazzata forse Anche Mona era utile Ma purtroppo Devo mettere di uno al suo posto Mona era utile per correre Ma non ci serve Troppissimo Ecco Vedo un altro lì Ci corro subito E quanta roba c'è qui sotto Troppa Ma non è mai troppa Ecco qua Cristallone Anche tu sei ben accolto Nel team Qui fa il giro dietro Sono incuriosito Incuriosito da questa roba Posso andarci ora? Vuoi di sotto Penso sia di sotto E c'è un altro gratuito Ecco di sotto si scende Sì Vedremo dopo Un breve rivotto Ma devo trovare un modo Per prendere anche Le altre gemme richieste Altro qui Allora C'era qualcosa di illuminante Qui sotto O era questo qui Che ho appena preso Ma Maledizione È una trappola Mi hanno ingannato Lo sapevo Che truffa incredibile Mi stiamo a scudo Grazie Allora Qui Questi Non Non dovrebbero parire da niente I mostri capisco Se n'è andato Ciao I mostri possono parire da niente Gli slime Sono letteralmente Creature molli Quindi possono Entrare nel flusso del terreno Ma questi qui Appena da niente Va bene Bomba fumogina Vuol dire che spieghi tutto Che le bombe fumogene Non ha senso Ma Dovrebbe esserci un checkpoint Qua vicino Diciamo un'altra gemma Perfetto Ma la prendiamo dopo Sarà qui sopra? Quindi meglio non scendere Per un attimo È lì Ok lo vedo Lo vedo Checkpoint Arrivo Checkpoint Sì Sì Tutti noi Checkpoint Ok Anche questo era abbastanza semplice Qui Ah sono vecchie notizie Di quando la miniera Era ancora aperta Va bene Non che ci serva Ora volevo prendere Quella cosa gratuita E lì sono solamente Prismi Non ci servono quei prismi Su Meglio le robe gratuite Lume Preso Eccolo qui Questa è la Mining Mining area Quindi la zona di scavo principale Infatti si vede che è una zona molto aperta E pian piano scende Decide un'altra Gratis Qui c'è una Cosa da attivare E' bellissimo andare in giro così A scoprire cose E' esplorare zone nuove Bellissimo C'è l'oro qui sotto? No C'è solo un report Ok Non ci interessa Allora C'è un aggetto che davvero non c'è ancora Come si prende? Minerale speciale E c'è qualcosa? Qui c'è il checkpoint Intanto posso salire O scendere quando voglio Chi mi ha visto ora? Chi c'è in... Chi mi può aver visto? Ehi Fammi tutti Vedo una cassa Molto brillante Ah Questo richiede tre pezzi Vero? Spento la luce Ma davvero Devo rientrare Quando lì c'è una ricarica gratuita Più altre cose che devo capire E' tutta una cosa da capire qui Questo è? Non capisco in verità Questo va... Capisco che va più veloce così Ma cosa serve? Non ne ho più pari di idea Altro pre... Oh c'è una trapola qui Ma cos'è? Davvero? Cos'è? E' un elettrico? Boh Boh è lo stesso come gli altri Sai Ehi Vola giù Gì No non è volato Cavolo sarebbe i danni Ah perché è di una questa Ho sbagliato il personaggio Va bene Sembrava molto più Più scuro quando era sopra la melma Ma è uno di elettro Semplicemente Ok Dicevamo Mi sei veloce E lì non ho visti altri Quindi posso andare a raccattarne Quanti voglio C'è anche un screenshot da fare Non volevo cadere Dove sono finito? Ah Sono bloccato qui sotto? No Se mi alzi in piedi mi baggo Vediamo Uii Sì Mi ha eiettato fuori Bellissimo Stando in piedi mi ha eietta fuori Giustamente non può compenetrarmi dentro Ma Quello è un punto dove puoi entrare Stranamente Ed è Non vorresti entrarci Perché ti blocchi basta Non ci posso Posso salire Vero? Devo fare il giro Così al massimo Magari trovo una fessura Dove entrare O meglio Ti appoggio No 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 Come sta in piedi? Ecco mi sembrava strano che non stesse in piedi Ok era più pratico così forse Fare un bel saltone Grazie mille Grazie mille Allora Vediamo Ti fare un Più veloce Perfetto E c'era anche una qui Vero se ho visto bene O se di base Le spammano ovunque Tanto vale Metterla anche qui No Le spammano un po' troppo Forse C'è una zona erbosa Più avanti Il prossimo rumo Dov'è? Dice una cosa che brilla Ah ok Non l'ha ancora caricato Come non detto Dice un checkpoint però E qui? E un'altra? Cos'è quello? E un'altra in un vaso Perché in un vaso? Bene L'ho preso Ne avrò abbastanza Per potenziarlo Ma mi manca L'altra gemma Mi sa che La tengo solo avanzando Con la storia Può essere Perché non posso ancora Rompere quelle melme Ah si La storia Vero a proposito Forse devo andare qui Ebbè Ti prendo questo E poi ci vado Questo lo posso prendere O Questo è facile Il checkpoint Oh no E in alto Allora lo prenderò un'altra volta Non mi sembra così Pratico da raggiungere da qui Quindi allora mi limiterò A andare qui a destra Perché c'è una zona Erbosa Sembrava interessante Magari Tanti nemici Perché tanto L'exp che danno È nulla Come sempre Lì c'è una cosa Da attivare però Non vuole Entrarci però Shhh Di soppiato Aha Non mi hanno visto Non mi hanno visto Dovevo andare qui Io Sembra interessante La zona Di qua si procede A quanto pare Non so però Se posso entrarci Perché magari Mi lo bloccano Quello posso attivarlo? Mi fanno malissimo E per me Tarsi sbagliati Continuamente Fammi tutti Ok E non la tastiera Un pesto più alto Allora tu Fatti abolire Per favore Non posso neanche avvicinarmi Che C'è la merma in mezzo E non vorrei perdere La mia luce così Il drop Non li posso prendere però È triste Qua mi ricarica però Quindi in verità è ok Whee Mi perde abbastanza lentamente però La vita è un po' meno Uno Due Quello più veloce Ok Poi Il fatto di procedere lì Come si entra? Ehi Guarda un po' che c'è lì sopra C'è un sasso salto Qui in giro Oh yes Ovviamente Questo è facilissimo Non ho ancora capito Come si entra lì però Il checkpoint Non glielo per un po' Purtroppo è A quanto fa Non si può passare Sembrava di sì Speravo di sì Va bene Torniamo a noi allora Il gioco vuole che va da lì E spero che mi diano un pezzo di lume Perché non si può andare avanti Cosa vuoi? La tua insolenza è darmi fastidio Mentre cercherò di andare all'avventura L'avventura non può essere fermata Stai calma Non ti combatto Lei ha un fracasso di vita È un fastidio e basta Può anche mobilizzarti Dovevo immobilizzarmi qui? Di qua Ci sono già passato Potevo passarci dopo Effettivamente Ma non ci ho pensato Bello Ci sono ancora i drop Che ho fatto prima Ti ho dimenticato prima Per dire che sono Davvero già passato Allora Prima l'omalia E questa no? Ah no È più avanti Ok Qui ci sono Ci sono entrato qui Dannazione Saperlo L'avrei fatto dopo La strada Allora Ah Ah la foto Vabbè Saperlo l'avrei fatto anche prima Devo farla di qualcosa La foto Così Ci può stare Sembra La melma nera Che abbiamo visto prima L'hai già vista? Corretto Corretto E Jimmy V Ci ha detto di stare attenti Hai ascoltato? No Il Paimon che fa La cattiva E quelli? Chiaramente Oh C'ho modi per batterli Non ho l'acqua Ma lo può No No Non morirmi Non morirmi Tu ci servi Ok Ora puoi curarti Non c'è più lo scudo Dove è lo scudo? È appena sparito Chi ha lotto lo scudo? Guarda Ti buzze Ricurati allora Mi ha lotto subito lo scudo Fanno male Ok Ora sei media Non cadermi però Perché non so come combatterti Non cadermi per favore Non cadere Non cadere È caduto Va bene È ancora in piedi È la scena epic Di un film No Non cadere E sei la grappa L'ultima cosa che trova Tranquillo Non ti farò cadere lì vivo Ecco qui Ora te come gestire È da sistemare con calma Ok anche tu Mi sa che cadi Non in basso Qualcosa manca Non c'erano mostri prima Sì infatti Penso fossero spawnati per tram Effettivamente Ma ci sono già passato qui Dai Devo dover ripare la strada Apparentemente sì Dove essere a seconda Il secondo posto Dove è andata No ma lì è andata Che dicono No qui non c'era niente Eh è la nuova È quella nuova Eh Ah perché Il fatto è che È una side quest Non doppiata Come mettono a lei Non la doppiano Che sta storia Non capisco Ah sì c'è più roba Ah 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 Mettono quella nuova E non la doppia Non mi pare strano Comunque sono curioso Vediamola Ah no Aspetta Non devo andare qui Devo tornare indietro Perché Non la devo seguire Davvero Va bene Andiamo qui Anche se prima vorrei fare Un report Delle luci che ho trovato Seppur mi sa che non ho Quello che serve È quello dove spunta Allora Dimmi che posso fare qualcosa No Ok Da Dalla lume stone Si prende Se processato Può essere usato Per potenziare La lume stone Perché non chiedere a lei Ah quindi Devo processarlo A giù V Era E' Gimbu Gimbu Si Ah Posso usato Per potenziarla Ok Come l'ho detto Come la trovo Però Vedo che dice qui Ehm No Ok Si io Pensavo fosse Ero qui per vederti E basta Ricercatore Bardo Alla missione Bardo Sentiamola su Non dovevo forse Che succede Menello è sparito Com'è Ha una gemma rossa L'ho trovato in un lago di lava Ok Te lo devo trovare No Basta Non è importante il resto Il dragon spine Non ha un lago di lava Di lava Ah L'imugaggio drammatico Ok Dimmi Dove l'hai perso E te lo prendo And Dove sia l'anello E Ladri Sono spesso visti in giro Ma ho appena desigilato la zona Che sta storia E dimmi dove trovare Fanno Annelli piccoli per te Paimon Come bracciali Li usa C'è molte che non sai Certo che li fanno Vabbè dimmi dove lo trovo Dai Su Guardate mi ha segnato Non la faccio però Stolen by the rightful owner Allora che volevo fare Eh sì L'evento Quanto dura ancora Non questo Cinque giorni Quindi La vorrei sbloccare oggi Ah Già che ci siamo Sblocchiamo anche l'evento Visto che scade A breve Il banner Il banner dura ancora Almeno due settimane Ora guardo dopo il teleport Penso dura ancora Un sedici giorni C'è ancora tempo Visto che non ho ancora Detto cosa c'è dopo Potrebbe essere Quelli nuovi In effetti Vorrei sapere Per sono oggi nuovi A quattro stelle Che non arrivano da tempo Bene ti do un po' No bene te l'ha Recentemente in verità Allora Abbiamo Dieci giorni Non farò più wish Perché non se Non mi serve Purtroppo non Buildusayu Razor Ne ha anche buono Ma Non lo uso Aspettare il prossimo Adesso Perfetto A meno che non faccio Quello delle armi Ma non mi Pare l'idea Ecco Io voglio personaggi Che noi armi Allora Missione settimanale Una missione importante Sono familiare Non preoccuparti Siamo abituati Dieti come sempre Perché vogliamo i soldi E Patrice E Patrice Ricercatrice La Fontaine Fontaine E' La regione Dell'acqua No Spero un assistente Nel chasm Ok Quindi andiamo Chasm A fare cose Va bene Vado giusto Fare un tentativo Di questa Questa cosa Allora Dove devo andare Oh no Ah devo cercarla Ok fuori dal chasm Qui Con calma Ah questo si fa fuori Io pensavo si facesse dentro Per questo volevo sbloccarlo Oggi Boh Comunque è un'avventura Sono wiki Sì wiki in effetti È pur stata una cosa simile No Di quelli che non escono da tempo Da lì si può fare Qualche deduzione Ma effettivamente Per la conferma ufficiale Mi va bene anche aspettare Ma stia I am fei anche Ci ha recentemente Tutti ci stiano recentemente In verità Bel modo per muoversi Assolutamente Allora Tu cosa vuoi combinare Ti prego Dimmi che non devo uccidere quelli Dannazione Tranquilli voi Dove E scappano Ah Mi sono venuti addosso Allora posso Fare questo Con calma Ora Grazie Ok Incercare Bloccata Per Perita Vabbè Tanto lui mi dirà Ehi bravo Fai sta cosa E Le istruzioni Siamo dentro Non ho sentato nessuna Ristretta Dovrebbe essere questa Allora A questo punto Non mi interessa Fare cerche sui sassi Vediamo cos'è So Fammi vedere Questi sassi Così voglio sapere Cosa combina E' uno di battaglia Se non sbaglio Cosa dobbiamo fare Vibro cristal Stimolare L'energia elementale Nelle gemme cristalli Ok bene Famelo fare Gentilmente Se avessi detto questo Ci avrei messo un secolo No Potevo fare anche Fuori streaming Questo effettivamente Ma già che c'ero Vuori fare un tentativo Di Di vedere come funziona Anche se effettivamente Si potrei fare Eventi fuori streaming Da un certo punto in poi Perché davvero Sono secondari E poco importanti Allora Sì perché Ho finito l'evento Della festa di Come si chiama La festa di Nazuma Fuori streaming Perché non volevo fare Il 2D live Dove Vedevo solo scene Ma è una scene molto carina Una c'era C'era Il militare Con la coda Come si chiamava Aspetta Che aveva Era super fortunato Vinceva ogni premio Tutto collegato A Lady Yae E lui non Sopportava Lady Yae Quindi ogni vittoria Era una sofferenza Per lui In verità L'altro era Se non sbaglio Con Ito Sì abbiamo fatto Una gara di beneficenza Con Ito Solo perché La ricompensa Era una bevanda Di soia Che lui era allergico Quindi l'ha bevuta Ed è caduto per terra Erano divertenti Erano divertenti Le cose In verità Deve spettare i personaggi In due parti E occupare ognuno Uno schema Ok Ogni cristallo Può trasmettere ad azioni A un ricevitore Fino a tre Ok Triggerando le risposte armoniche Darà punti armonia Fin qui ha senso E oltre un certo punto Aumenta la forza armonica E beh farai Il danno critico Uh Interessante Deve sconfiggere i nemici E ottenere i punti Come sempre E nemesis Daranno più punti Bene Possiamo fare un po' Di battaglia per favore Subito action Per favore Allora Ah vero che L'evento sta per finire Quindi li ho sbloccati Quasi tutti Giustamente Qua sono stesse Fere luminose Premo solo uno dai Facciamo In hard Ricompense Non sono male 70 primo gemme Per livello Mi fanno provare questi Davvero No 20 non l'ho preso Purtroppo Voglio vedere allora Come sarebbe venuto Un party con 20 Davvero Quindi Lei 20 Shinchu Allora E Bennett 20 nel secondo Mettiamo Ganyu Lei Lei E Mona Non ci sta male in verità Ah però Vabbè Usiamo il mio Shinchu Il suo Shinchu Penso sia abitato meglio Del mio Perfetto Sfruttiamo finché possiamo Scrocchiamo Ah Cosa vuol dire Quando fai danno Con un burst elementale Questo è perfetto per Perfetto per lei Per questo team Perfetto Questo aumenta danno Burst ma lo fa anche Lei Quindi direi che è una combo Fantastica Maestria elementale Energy recharge Energy recharge Si sta in verità Molto bene Col burst Mentre qui Il burst Ci sta con Maestria elementale Perché fai un super Venticello Poi questo Invece Uso una skill Possiamo fare Danno burst Energy recharge Ogni mossa In teoria Potrei fare anche qui Ah Più ne uso Più è forte Ma è fantastico Dai Perfetto Appena Aprendo il campo Questo A questo punto Aumentare la maestria elementale Di tantissimo Quindi anche qui Potrei buildarmi Su energy recharge Per spammare La mossa finale Perfetto E' facile Partiamo Distruggiamo tutto Davvero Ah Non ho messo Dione Vabbè Chi serve Dione Allora Vediamo Sono curioso Partiamo subito Vai Venti Fai la tua roba Venti è forte per questo Ci putto sopra le menti Sono già distrutti Va bene Ma Ecco Finisco lì dentro E Beccano bei danni La verità ce la faccio anche Così Poi maestria elementare Fa molto più male adesso Cosa vuole quello Tieniamoci un Bennett Perché si Ho sbagliato mossa Vabbè Va bene E' così Bennett Ecco E' già pronta Ha una ricarica incredibile Tieniamoci un po' di fuoco E acqua Sono già dissolti Sono spariti Peccato Però da solo non fa questa differenza È vero che fa quella mo Cavolo fa male Venti Fa male Di nuovo Li dissolve Per questo volevo Venti Li sta dissolvendo Entrano nel buco nero E spariscono Per questo volevo Venti io Per questo Ah in cooldown ecco Guardate Venti Ci butta anche un elemento in mezzo E Spariscono Guardateli Non ci sono più Spariscono da soli Composti in istantanea Ma cos'è davvero Io lo volevo Venti Per questo Venti è una sorta Easy mode Va bene Così Oh Vediamo con lui Il difetto di Venti Però è con i miei singoli Perché non Non sono attrati molto dal Venti È il suo difetto Che invece risponde a Yaka Però a questo difetto Ui Come l'ho schivato Oggi in mente È anche comodo Per esplorare Venti Effettivamente Dai proviamo Così almeno Un po' disattiva il Fulmine Vero Cavolo che danni Ma il serie mentale A go go Bene Ancora Va bene Sai cosa fare Venti Proviamo Allora non vengono attrati Ma comunque subiranno No Ok Venti è stato un po' Nerifato recentemente Effettivamente Visto che molti nemici Sono immuni Ma è bellissimo Come si libera in alto E si ricadica moltissimo Il mestiere mentale Vedo Powerful nemici In 5 secondi Bene Aspetteremo Tempo di far partire Allora 20 Ora Ah Ah no Perché parte la seconda metà Ok come l'ho detto Bene Ora andremo con Eddie e Shogun La sua mossa è più La sua mossa è più Mosse speciali Fai Più Fate la sua ulti Quindi Vediamo se si ricarica Così Un punto per la ulti Poi Due punti per la ulti Tre punti per la ulti Sono già morti Sono già morti Aspettiamo che le spuntino altre Dai Ah no dai Ulti Non ho visto quanto male fa Ci sono troppi numeri Ok Proviamo Ricarichiamola Devo spammare Posso spammare le ulti qui Buona Fai la tua cosa Xian Ling Sai cosa fare Più ulti E' necessario fare questi Non penso sia necessario Può morire così Ora Ulti 69.000 Da Quanto? E' devastante Anche ne la volevo Dannazione La volevo Per questo Perché è fortissima Anche una mossa di Mona Direi Per ricaricare Ah in cooldown Facciamola direttamente così Anche qui 67.000 danni E' incredibile Questo team Pare se la caglia un pelo meglio Dell'altro Ho questa impressione E il team spamma ulti E funziona fantasticamente Ora L'ho dimolita E' incredibile Letteramente il 50% Della battaglia Sono cazzine Di anima Di mosse finali No Non ho più la ulti E' in cooldown tutto quanto Stupidi cooldown Non ho bisogno Ora Distrutti di nuovo Epicissimo Di più Di più Più destino Più deciso dal destino E anche senza la ulti Distruggi in verità Ok Musa finire di nuovo Questo l'ho distrutto Ha schimato No L'ho capito lo stesso L'impressione E legge un po' di più Abbasso spawnare ulti Come sempre E muore Come sempre Ecco qui Toccate ancora Raiden Qualche seconda in più magari Anche Raiden è un personaggio Mi piacerebbe usare Purtroppo non capita così Frequentemente Poi in verità Questo qui è anche Ha una costellazione molto alta Davvero Penso che non te danno Quella costellazione base Vogliono dartelo E farti dire Wow che figo La voglio prendere Così te lo mostrano Al massimo della potenza Attimo che riscatto è mio Premio Poteva anche andare a sbirciare La sua build Effettivamente Ah va bene così Sì Sia 20 che lei sono forti 20 in verità Beh poteva essere bilanciato In verità Mettendoli in team Con Ayaka Così Ayaka faceva danni Burst singoli E 20 quelli ad area Non sarebbe stato male Per niente Bene tornando a noi Dove devo andare Non ricordo Attiverò la quest 60k Zongli Sia con 90k Bra Effettivamente Sia con Non si vede da tempo No? Nei banner Deve tornare Zongli Zongli Sì Fa lui Tutti quei danni devastanti Però Deve ricaricarla la mossa Raiden fa anche Però in verità Zongli Anche lui è fortissimo Effettivamente Tira un boost ogni tanto Nel mente Tira degli scudi Che ti rendono Intoccabile Tutti gli Arcon Sono fortissimi Forse Zongli Di più Ma comunque Anche Raiden È fortissima E anche 20 E dove cavolo Devo andare qui Allora Questo Vediamo cosa Mi dice Ah Si può fare Però non voglio Andarci Mi segno qui Questo Ma venire Feremo quando Finisco l'altra E quello da fare Ora è Non mi ricordo Questo Ah Te la dà come Ricompensa Questa Ho capito Va bene Era qui Oh Perfetto Sono già pronto Fantasticamente Qui si è già fatti Ma non completati Ah Le sfide Del Qui dell'ace Si danno buone Ricompensa Danno molti primo gemme Gli eventi sarebbero Sempre da fare Che danno molti Proprio gemme Piuttosto è meglio Non fare Le cose Daily Naturalmente Te ne danno Solamente 60 Accumulate Chiaramente sono Qualcosa Però Sarebbe anche buono Entrare nel gioco Un giorno Ogni 10 Fare gli eventi E andarsene Becchi comunque Un po' di primo gemme In particolare Questo evento L'ho sbloccato alla fine Quindi Ho tutte le quest Non devo neanche Aspettare giorni Per averle Salve Ecco la cosa Che esplode dietro Grazie per salvarmi Ehi se ricordo Sei tipo Toclipo Che? Oh no Non vedo nessuna medicina finta Sono Clitopo Sì ma Non quello Che vende farmaceutici Farmaceutici Quindi quelle che vendevi Sono false? No impossibile Le medicine che vendo Sono 100% reali Cioè Hai visto i minatori La mia è bevuta E si sentivano grandiosamente Non dicevi di non essere Quello farmaceutico Ah sì Era dopo la mia vita di vendere medicine Che è finita È finita quando Quello clipo Vendeva finti sotto una falsa identità Mi sta confondendo qui Mi deveva farsi Le medicine è stato un falso nome È rovinato È rovinato la mia reputazione Vero Per questo ho giurato di vendere Di smettere di vendere le medicine per sempre E nel mentre ho catturato questi Treasure orders Sì quel celatano è veramente Fastid Despicabile Ma se quello è vero Vado ad ingannare quelli Nello stesso business Di lui in quel modo E poi Quale è il falso nome Quale è il falso nome di Questo toccrippo Mi fa ridere Questo toccrippo Critopo Cosa vuol dire E ti Perché Twitch ti ha censurato La parola viola Ah perché si può leggere anche In un altro modo Violare la sicurezza Non so perché Dove è finita quella viola Parli dei personaggi Forse Non mi ricordo però nessuna viola Forse che Ah quelli che usavo io Ah Raiden Era di prova quella Purtroppo non ce l'ho davvero Quella L'hanno fatta provare Per farmi dire Ehi Devo Devo shoppare Per averla Peccato Perché continuano a parlare Del suo supernome Dannazione È importante davvero Quindi Toccrippo è diventato un nome Che confusione Aggiungo io Hai quasi confessato Riportemolo su I soldati I soldati hanno molte domande Per lui O potremmo occuparcene qui Come protagonista Subito Mania e omicida Subito Eh non è il tempo Per queste battute Paimon pensa Che divertente Non sto vedendo No Non è divertente Hai ragione Perché siamo seri Un attimo Un attimo Non è il tempo Degli interrogatori Oh È il tempo Degli interrogatori Sai Portare un cacciatore Che è spaventato Vicino alla morte Non mi piace molto Li portiamolo al campo Ehi ehi Portami Con calma Ti posso essere utile Puoi vedere Mi hanno buttato fuori Degli cacciatori Quindi sono un cittadino Di nuovo Sai Ah Sei un cittadino Rispettabile Assolutamente Quali sono le sue abilità Posso fare esplosivi Sì figo Subito assunto Nel gruppo Vieni vieni Nessun medicina false Ho schippato La scelta Ho schippato la scelta Che succede? Ho schippato La scelta Strano Non ho fatto neanche il suono Le tue esplosioni Non sono false Vero? No Sono reali Davvero Non sono la libertà Di includerti nel team Giudicheremo dopo Intanto Ma immagino che Sceglieranno di darti Ai militari Ti tratteremo d'occhio Forza Non vendo più Medicine false Forse lui mi dà il cristallo Ora ho cristallo Devo finire la quest Voglio potenziare Quello affare Tanto non ho fretta Per combattere A quel boss Tanto mica mi serve A batterlo Sì esplosioni Vedo che Già possiamo capirci Noia e lui E li vedo Un bellissimo Tesoro Tutto velocicante Grosso Ah ma c'è la signora La signora lì Lei è forte Oh almeno è robusta Focusiamo lui allora E quello fuoco Pian piano uccidere Allora con Gli attacchi potenti Faccio andare a trovare la vita Per favore Non vedo niente Facciamo questo Faccio un po' di Bennett Così Mi perforo un po' la difesa Posso avere uno scudo Per favore Ok ok Faccio abbastanza male Se non Non mi colpiscono Dannazione Stai morto Per favore Stai abolito Ok Posso muovermi Per favore No Grazie Gentilissimo Ce n'è un altro E chi l'ha visto Senti facciamo fuori questa Prima va bene E c'è anche la barriera di cuoco Io voglio la cesta Va bene Io L'hanno e c'è Allora facciamo così Ed è un passito Che questi nemici Anche se faccio le reazioni Non perdono la barra Altri nemici Tipi maghi Perdono barra Con le reazioni Questi no A me è che puoi colpire Oltre la barra A difesa dei maghi Però comunque Se non hai modo Per romperla Non puoi fare niente Stup Hai detto Mi lasci in pace Per favore E chi mi ha colpito Ah è stata lei Non vogliamo lasciare in pace Tipo delle esplosioni Dovrebbe tornare ora Per avere fatte utilità Tu che vuoi E' morta bene E' tempo di consumare lui Piano Piano Vuoi farti abolire Per favore Sai cosa fare Bene Ora si ragiona Pian piano Ti consumo per bene Faccio anche lui Danno Dove è caduto Stai fermo Questo non è fatto Bello Non mi può neanche colpire Quindi direi che il punto perfetto Ha missato Bello come stare con un charance Camminando lateralmente Lo sto missando Gah Gah Dice Gah Quando viene colpita Ganyu Come Ganyu Gah New Lo fa apposta Come i pokemon Gah Ganyu Ok è morto Grazie mille Gentilissimo Nel morire Gah Gah Ganyu Gah Gah Ganyu Ci partirebbe una song Così Gah 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 Ganyu Aspetta Io ho Ieri fatto La quest Del Dell'omlinet Veloce Fermo lì No è in cooldown È in cooldown Un omlinet Niente Ho deciso di fare Finalmente quest Secondari Fuori streaming Perché Non danno Nessun Contenuti Poco importanti Davvero Va bene Dopo quella deduzione Del furto O del rapimento Fallito Tempo andare qui Ah C'è un covo di banditi Dobbiamo ripulirli tutti Allora Stanno già cominciando a scavare Beh almeno cominciano A aiutare la comunità Scavando Fanno lavori seri Finalmente Posso per favore Sistendo con calma Almeno loro non Non fanno cose strane Tipo Avere barriere Con questo Direi che è una buona Compo con Yangfei Nei gruppi è buono Questo La mossa di Ganyu Qui si tappa bene Yangfei Cos'è questo Proviamo Proviamolo subito Il meccanismo Non si è ancora Arrugginito Sembra che è Ancora lubrificato Sembra tutto a posto Solo che la sicura È ancora attiva Ah è per Vabbè Per romper è quello Allora Posso riprenderla I tunnel Sono sigillati Con grande rocce Sembra che Useremo ancora Il cannone Ma senza spari I cannoni Non importa Quanto l'aria Gli sono inutili Lo so C'è un Un ripostiglio Vicino Che potrebbe avere Il colpo Con un po' di fortuna Potremmo trovarlo Ok andiamo È tempo di fare Non proprio Esplosioni Ma lanci Allora Posso riprovare A prenderlo Stavolta non posso Fogliere il colpo Perché è un Quello è un troppo lungo Ora L'ho missato Vero Almeno l'ho ucciso Per un pezzo di carne Non valeva la pena Ho l'impressione Chi c'è Cosa vuole Chi Dove Come Perché Ok Si è calmato Allora Il postiglio Dovrebbe essere Vicino a quel Oh Come mi ha colpito Ma davvero Ero Sulla scala Ok È un modo Per scendere le scale Come tanti altri Io non giù Ed è un modo Per salire le scale Come tanti altri Anche se è un po' Più notevole Queste effettivamente No Me ne vado Ciao Quel tipo è Particolare Senza dubbio Ah Lo vedo Ci fa Dinciato Ma salve Ma salve Vedo già Un young Ah Non ho Mai notato Lei che Dide come Una Prinzessina Beh tipo Negli anime Ci sono Le classiche Ragazze Bionde Riccone Che fanno risate Ecco Mi sembra Una risata Di quel tipo Una Almeno mi dà Quell'impressione Allora Posso per favore Prendere il checkpoint Senza esplodere Da Ok Mi faceva strano Che non esplodevano Ho dovuto rimediare Questo è da evitare No Mi chiedo Quando posso spegnerlo Con la skill Penso Check point attivo Devo solo andare Interno Terzo round Z Ok Stengo premuto Miro però E' già scappato Ma come La testiamo Allora la mira Oh Cavolo si può andare A distanza Niente male Attimo Facciamo l'ultimo Tentativo Vediamo quanto distante va Ok C'è un limite Di range Ma non è male Cos'era Questo Mi servono anche un po' di cure Bennett Sai cosa fai Perfetto Humor intensifies Ah Ho già dimenticato Cosa ho appena fatto Pochi secondi fa Ah Cosa avevo fatto Dimentico Già Già tutto Per la cattura mostri Forse I mostri Ho sentito Che li puoi prendere E portare Nella tua base Solo che Non ne ho preso A uno l'ho preso Ma solo uno Effettivamente Non si può mettere Niente nella base Loro mi servono Nel loro artiglio Per Cos'era Dimenticato E dovrei in verità Anche evitare Di morire Visto che fanno danni Oltre lo scudo Questi E' per potenziare L'arma Un Un libro O più che libro Un catalizzatore Che è molto buono Perché è il luevo catalizzatore Che ho a 4 stelle Che aumenta l'attacco E' quello Della Dall'evento Sotterraneo Quindi Velo proprio portare Al massimo Perché Su Yanfei Ci sta più bene Questo che fa Danny Burst Ogni tanto Quando il nemico Ha gli status L'altro magari Permone Dove devo andare Lì Ma è chiuso Mica vuole Mica pretende Che trovi un modo Per entrarci Senza indizi Ah si Ah ragazzi Ah perché Amori non Non ho ancora giocato Appunto Prima o poi Dico sempre Ma Devo trovare un po' Di Il momento giusto Ecco Perché si Forse vagamente Ne ho vista una Sì Di quella che fa Oh Vagamente Ho intravisto Devo davvero giocarlo Quello Questo è il luogo Oh è chiuso Sembra Devo usare due chiavi Per aprire la porta Forza Perché Le persone di Rio Si preoccupano Per le minime cose Vedi La scritta Oltre Il cancello Cancello Almeno ci dice Che possiamo trovare Qui le palle di cannone Ma come sai Se i fusi Sono ben Conosservati Va bene Abbiamo un ottimista Tra di noi Puoi smetterla Seriamente Cosa faccio Ascolto Un cacciatore Di tesori Che ci dubita A destra e manca In ogni caso Dobbiamo entrare Esattamente Non combattete Non litigate Ok Fallo esplodere Beh Abbiamo il maestro Qui Effettivamente Potrebbe fare qualcosa Dovremmo attivare Un dispositivo Segnalatore No Saremo occupati Dopo che Dopo che si apre Jimbo ha detto Che ci dovrebbe essere Un punto d'osservazione Per il team Di demolizione Da cui Sistema di segnale Da lì Ah E' quello Che ho circa Attivato Sì Attivato questa E devo tornare indietro Che mi dirà questo Finalmente Eh Due chiavi Come due Non basta una chiave Cosa vuol dire Due chiavi Ma Qui posso teleportarmi No vabbè Eri vicino Mi sono logato giusto Per fare le daily Sì effettivamente Quando tra un po' di tempo Ho un video da guardare In sottofondo Mi Mi attivo sempre Genshin Impact Per farmi un paio di daily E' rilassante Giocare con qualcosa Sottofondo Magari un video Appunto uno streaming Prendi questo Non serve essere Ducati Mi dà quella gemma E' vero Ok ho già preso il discorso Comunque Tranquillo Mi dai Sì perfetto Ora posso livellare Oh no Vuole una quest lei Ma io voglio potenziare Non voglio fare quest Una quest Ma sono già in una quest Ah ok Continua la trama Come l'ho detto Continua Critofo cosa fai qui Ah beh Lo conosci Sì facevo medicine finte Di sopra Andavo in giro a pubblicizzarle Come reali medicine Oh medicina di un vero uomo Ma era solo marmellata Bello Non solo era pericoloso Ma era anche molto buono Era economico e molto gustoso No Non era pericoloso Era anche economico e gustoso Era anche nel ghiaccio Considerato in verità Era un affare molto migliore Che comprare bibite Nella città Quindi si è caduto Nei cacciatori Nel mentre No Lo sai Tipo sì Ma è molto impare ragazzo Spendo 20 anni Della mia vita Nelle miniere per niente Sai Ma siamo appena tornati Dopo due anni Puoi lavarti il colore della faccia Ma non puoi togliere Il colore delle tue mani Dimmi Cosa puoi fare Dice che può fare esplosivi Ah Trucchimi Allora serve qualcosa ora Ci serve un Team di demolizioni ora Aspetta Non siamo in contatto Con il team Demoli Demolitore Di monstrat Perché contare su di lui Ah Lei Mooney ha ricevuto Una lettera di scusa Questa mattina Ah Si parla Parla di Klee E Klee Parla Parla di Klee L'esperto in demolizione È proprio lei Dicendo che la ragazza Ha fatto esplodere Le pentole del ristorante Chiamato Buon cacciatore Ed è messa in punizione Come risultato No Non possiamo avere Klee È un gran peccato Anche la sua guardiana Immagino È la capitana Delle cavalieri Immagino In punizione anche lei Deve venire Con Klee Non sono sicura cos'è Forse è una sorta di codice Per le persone a monstrat No È davvero in punizione Klee Chi potrebbe essere Klee Klee Stoffo Forse potrebbe essere Una scelta più Più sicura Vedo un'occhiata Agli artefatti Anche se non serve Perché sono aere basso Ma no In verità No Gli artefatti sono importantissimi A prescindere Penso che Indifferentemente Dal livello del personaggio A parte per le abilità Gli artefatti fanno una bella differenza Penso che dovresti dare Artefatti buoni E livellarli più che puoi Per i personaggi Così diventano molto forti Non so se lo fai già di base Ma aiutano moltissimo Immagino che tu hai già un fortunato Klee Tofu Forza Klee Tofu È da monstrat Quindi non è tra poco lontano Da quello che cerchiamo Basterà Grazie mille Quindi sono membro Del timore Appena hai dimostrato Che sei degno Beh Non lo fate in questo tipo Il team di demolizioni È un appuntamento chiave Le vite sono in ballo E diamo il compito A un cacciatore di tesori Conosco questo ragazzo Più di te Non è cattivo Non ha mai avuto coraggio Comunque Dagli un po' di tempo Quindi oltre che incontrare Nuovi amici Siete qui per qualcos'altro Beh la via per i livelli più bassi È stata sigillata da una pietra Quindi useremo il mountainator Per pulire la strada Il cannone Dagli un nome Il cannone Il mountainator L'ha chiamato mountainator Ah basta Intendevo Nel dipartimento di ingegneria Lo chiamavamo Distruggi casaforti 2156 Ma immagino che mountainator Funziona lo stesso È un soprannome carino Si usano il cannone Demolinate Mountainator si chiama Ecco È un peccato Che non ero parte Del team di demolizioni Comunque Dovesti trovare un manuale vicino Comunque La chiave dovrebbe essere Nascosta Separata In due Dispositivi di filtrazione Acqua Perché neascondi lì Perché neascondono lì Le chiavi Ma non è come Nascondere la chiave di casa Sotto il Il Lo zerbino Che sicurezza è Beh Il chasm È fatto Non è fatto per persone comuni Non possono entrarci Tutti quanti Anche se persone Con cattive intenzioni Sono entrate Non è probabile Che pensano subito A trovare due chiavi Nascoste in posti hobby Vero amico cacciatore Beh Oggi non l'ha trovata Quei Quei diote non conta Devo continuare a fare queste mappe Vi lascio Cristofo a voi Ok ottimo Dovrei espanderla un po' Lo terrò d'occhio Chissà se ha qualche piano Malefico contro di noi Anche se G.U. Si fide di lui Non abbassa la guardia Non posso stare in pace Finché non è le mani dei soldati Buttate un occhio su di lui Non datene una possibilità Di fare niente Ok ora che sai Dove sono le chiavi Non disturbarmi Ok Comunque Valdorf Ok ora mi dice Che posso potenziarlo Perfetto Devo farlo E ho visto ora E mi sono ricordato ora Che devo Consumare queste cose Quante ne ho? No ne ho 5 E niente Avrò 160 Permanente Oggi il mood è Cici Neanche Cici per terra Cici è un mood stesso Ecco A me capita quando Non voglio fare niente Purtroppo Allora La finiamo Si Ecco qui Attivarla Fa Blooming light Che consuma l'energia Per distruggere Costruzioni Uzing Nivello 1 Ogni 4 secondi Perfetto E per rivelare Mi basta averne altri 6 Perfetto Allora Vediamo come funziona E' tipo Quello dell'evento Di Economia Ok Ah ok Per togliere quelli E anche per attivare Certi meccanismi Ho visto Che devo fare quindi? Possiamo provare ora A battere il boss Perché no? Possiamo provare a batterlo Diona è nel team Devo un po' curarmi Mi serve Bennett A livello Ascensione 1 Ok come nuovi Allora Proviamo da fero Ora Oh Ho baglato tasto Per raccogliere oggetti Ecco cos'era Boss time C'è anche un oggetto lì? Vabbè lo prendo dopo A noi Voglio fare subito uno scudo Vero? Ah non l'ho troppa vita Mi metta sin a tante ma Potrebbe averne di più Dai Esci bello Ok Ho fatto subito la sua cosa Oh Non qui Non qui Non qui Ok Devo romperla così no? Non è in range Come ripendo alto adesso? Mi butto dentro Devo rompere questo Come si rompe? Non ho personaggi che fanno questi attacchi Attacchi decenti per quello Non lui Questo Ok ok buono Cosa fa? Aiuto Cos'è? Via per favore Via Non posso fare niente Come posso schivare quello schifo? Ok è rotto Fantastico Ho mai caduto già due achievement E se non ho tutti e quattro Mi da qualcosa No Lo cura? Se lo cura è un problema Così lo sordisco però No non ho più materiali È un problema È un problema Scudo nel caso E non colpire lui Meno male con lo scudo Se no sarai morto Non colpire lui Devo romperlo prima Ora Ok Te le basteranno Anche se vorrei avere più cariche effettivamente Forse non dovrei combattere comunque il boss Se vanno più cariche Allora Allora Andiamo a fare i culati un po' Va bene E mi mette lo schifo Va bene Tanto posso danneggiarle un pelo qui Finché riesco Ok Allora lo schifo E da rompere Ok Non buttarmi sopra No Fatti Fatti colpire dal congelato Grazie Devo rompere Ok è un momento di rompere quello adesso Un momento Un momento Oh perché non posso mirare questo Dannazione Mi sembra una con la spadona Qui Perfetto Questo è perfetto Allora Uno E devo fare quando carica la mossa Sarebbe diare in verità Quindi posso conservarlo Ora perfetto Veloce Questo Ora Bene Un bel monster break È un momento di pestare Allora Ciao Bentornato Guardian Si pesta qui Curati Sì sì abbiamo già Bennett Oh Che cura Devo fare Una mossa Dannazione Non mi ha dato il tempo Di fare la mossa Dai Ok Almeno sono nella zona potenziante Un po' di danno lo faccio Serpente Faccio arrabbiata E spada Va bene Nel momento di romperlo presto Perfetto Se posso già romperne Uno Due Ah è in cooldown Due E tre Mi si mette in mezzo Ora rompiamo questo Presto Non ho fatto in tempo Ci ho fatto lo stesso Bene Quindi ho di nuovo I valori Per dopo È impagnativo questo boss Molto bello però che è una meccanica unica Una seccautura da fermare Immagino però Molto interessante il boss Mi serve uno scudo ora Questo Ah L'ho ricaricato nel momento sbagliato Vabbè Ora fare la mossa speciale Vero Devo caricare bene Infatti L'ho missato L'ho missato Ne ho ancora una Bene Ne ho ancora una Bene bene Ok Se finivo le cariche Non ho un bel problema Bene Gagnos E cosa fare Ma è appena L'ho subito stunnato Perché subito ho sparito Devi essere stunnato Tutta la mossa finale O ti ho distrutto un po' Ti prego Colpisci quello O mi hai detto Ok Questa la rompe E non devo neanche mirare Va bene così Tanto Non devo sfruttare la ult Non fa così male Di nuovo Dai fermo Ti prego Qui Perfetto Gentilissimo Potrei rompere Con calma Ora In che aspetto Che L'ho schivato Non più Continuo a fare Sta fermo Ok Devo rompere questo E quello Sarebbe buono Prima che sparisca No Ok ok Lo rompo Lo sto lo stesso Schiava di Togliermi le cariche Questo per dopo E So cosa fare Dov'è 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 E' lì Presto Fatta E' stunnato Hai bene Sai cosa fare Per esempio Non è stunnato Allora Forse devo farlo prima Vabbè Mi hai danneggiato per bene Di più Di più Fai più male Non più rompere questo L'ho missato Va bene Ora Come lo colpisco Così Via da qui No 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 Le mie cariche Le bellissime cariche Ok ci do di nuovo Ma non bastano Mi manca ancora una Spero le spawni Altrimenti non posso rompere l'ultimo E' un nuovo boss Si è molto bello Mi piace moltissimo Come meccanica Infatti volevo farlo Combattere per questo Per vedere com'è No Questo no Qui si esce Ok ok Ma sta corrida è molto Tanto molto Lo posso colpire? Forse no Così si però Penso posso ucciderlo ancora Prima che faccia la moto Dai E' morto Non provarci Muori muori Ho missato Benone Ora Cavolo ha molta difesa così Ha molta difesa Dai che muore Ecco qui Cavolo se la difesa Mentre fa la mossa caricata Ecco qui E non mi serve batterlo Ma battiamolo Bene E' emozionante Devo dire Molto bello Ok Non ci serve farmarlo Quindi addio Sarebbe proseguire la storia Ed è molto lunga qui sotto la storia Era Ho dimenticato la storia da fare Non questa per forza Non ce ne sono a questa attiva Non questo Non è questo Qual era? Ah ok Qui sotto Vedo Devo cercare le chiavi Facile poi Che me le indica anche Un tantino più originale Non si sprecano al massimo Ma ci sta Sì ma molto Molto bello Mi piace molto quando Nei giochi ci sono battaglie contro i boss Che non sono un classico Attacca schiva Attacca schiva Ma anche da fare qualcosina in mezzo E anche Il pelo di interazione con i boss Che non è mai scontata Non è niente male Tipo ci sono ad esempio I boss di Cuphead Che sono bellissimi Ma una cosa che mi spiace Che manca È che Il boss È come se tu non ci fossi Nel senso Va bene che qualche attacco È mirato ma Non devi fare niente al boss Devi solo attaccare E attaccare Maggior parte dei boss Che non ci ne impacca Maggior parte no Vari sono così Ma alcuni no per fortuna Attaccare Aspettare il pattern giusto E a schivare Ah qui sono obbligato A fare così In volo Che stile Dove cercherlo da qui forse Chi nasconderebbe una chiave qui Paimon I miglioratori sono strani Lo so Dice che c'è una gemma qui Sare in c Ecco la lì Come ci arrivo lì Come dovrei arrivarci Boh Prendiamo un'altra No Devo andarci a piedi Che noia Almeno qua vicino Mi ricordo qualcosa Ma non ricordo cosa Effettivamente A me ricordava un po' Quando Il fatto che Mi era sotto terra Vari boss O un boss di Era Monster Hunter Solo che Solo per la feature Di andare sotto terra Non per il fatto di Non per il fatto di Fare quelle cose Che devi distruggere Ma ci sono vari boss Che hanno cose da distruggere Quindi Direi che Hanno fuso un po' le cose Di un mostro Che va sotto terra Con Un boss Con cose da distruggere E qui sotto c'è qualcosa Mi ci butto dopo Oh qui c'è il giro dietro Oh no Non volevo battere Vabbè Che cosa vuoi te Stai calmo Non funziona Non sopporto Quelli con Che fanno così Perché non ha senso Una battaglia normale Buttarsi verso il nemico Agitando la pala Avanti indietro Così così Mentre corri È una stupidaggine Incredibile Che fanno solamente I bambini Corri Agitando l'avanti indietro Ma nel gioco Che a quanto pare È rottissima Come tecnica Quando nella vita vera Ti espone tantissimo Non ha senso Beh Volevo compiere Questo Ho capito Almeno Restasse congelato Perfetto Sostenuto Fanno I Volevo Con Un Contrattato Ciao Ciò Michael Con la terra Prendere un Pg3 Faire cose Non si viva la terra Per andare in alto Terra Non si viva la terra Andare in alto Per andare in alto Di base Usarei Ka-ching Per fare lo scatto Il protagonista Al massimo Una cosa è per andare in alto con la terra ma piuttosto usare caching è più pratico se non devo farmi sconciatoie e poi non l'uso da secoli Ora c'è un oggetto che ti permette di usarlo e ti fa una corrente accensionale Cosa sta a fare? Ok allora non posso andarci a quanto pare Foto? Ah e chi l'ha visto questa? Bene e la chiave allora è ah ah è qui sotto Ok pensavo che era proprio lì c'era anche l'icocina pensavo l'icocina fosse di questa quest E invece no No niente tuffo Ha volevi La zona è questa no? Ho poca vita devo curarmi Bene il sacco da fare Fare la tua cosa che sai fare sempre La tua cosa OP E devo ancora OParti all'ascensione 1 Tanto ho sbagliato Ho sentito bene di ora quando lancia qualcosa fa Ok non posso sentirlo Ma quando viene danneggiata piuttosto di una dice Miau qualcosa di quel tipo non ricordo Proviamo? Ah ormai sono morti Ti credo che aveva strane voci di danneggiamento di una Solo per essere una Neko effettivamente Una Loli Neko Nel combo che a quanto pare non va a Lolo Sono sbagliata? Dove devo andare? Ah eccolo qui E lì? Sembra un dungeon quello Oh no E' un dungeon Cos'è? Non me l'ha aperto la E' per portare un dungeon no? Mi ha portato fuori? Cos'è? Sono fuori Interessante Eh da dove si Ah da qui Interessante devo dire Curiosity Killed Diona Almeno Metà Diona è abbastanza resistente effettivamente Essendo Un support che da scudi Quello devo prendere La chiave ma dov'è? Dovrebbe essere Perché quelle rocce sono diverse? Dovrebbe essere qui sopra ma non mi ha dato niente Devo forse fare qualcosa? Romper Ah Romperlo sì Perfetto No Questo Qui Fermo Fermo So cosa fare con te L'ho preso Sì L'ho preso L'ho preso Fantastico Lo metterò quando si potranno mettere Allora Cosa che lo devo fare? Quello no Questo È qui Eh? Ah Era nascosta bene stavolta È così morta di una Già che ci sono Andrattiamo qui Visto che lì sopra era bloccato O ci sono già stato qui? No no mi confondo con l'esterno Bello però che ci sono fatti qui Quello cos'è? Starashroom? È nuovo? Non l'ho mai preso? Non l'ho mai preso? Serveva da scendere magari qualche personaggio? Effettivamente E perché è spunto da quello da niente? Cosa vuol dire? Cosa è sta zona? Oh Bello Ci siamo schermati di posto E non mi ha colpito Solo in questa zona crescono i Starashroom Perché fanno luce Abbiamo sonda da Dragon Spine Posso per favore non morire di una cutscene? Devo fare qualcosa qui Che non è morire Tanto non mi puoi colpire qui sopra È che infatti si arrende Che ti sia da lezione Mi sa non si può Non si può aprire Ma ho fatto il giro Quindi non serve più questo Cosa vuole quello? Non ci serve Curati Ma no Dio una stavenone La userò nella battaglia Così mi do anche un boost all'attacco Visto che Dio una dagli scuri Lo faccio quando devo Dopo che mu... Vabbè facciamo ora Già che ci sono Stavo per morire Cavolo Sono morto Va bene dai Non serve Lei posso anche Ignorarlo? Ma visto che è qui È il tempo di farsi valere Eh devo... Ok ora Ok è il tempo di avere lo scudo Devene come nuova Tranquilli Stavenone Con tutti gli scudi Non può morire Vorrei proprio cambiargli lo scudo L'arma Mi ho messo quella che dà più HP Ma penso toglierà Mettere quella che Mi ricarica la mossa ogni tanto Che è molto meglio On è quel tipo di nemici Che prende Un elemento Perché l'acqua Non l'ho messa da nessuna parte L'ha beccata lui da solo Penso che vorrei anche acqua Beh direi che È una pessima scelta È una pessima scelta Niente di meno Bene Se hai cercato Oh Allora Vasta la pena davvero Voi grazie Non mi interessate Ehi ma guarda un po Cosa c'è qui Da un po' non li prendo Dove riprenderne altri Cinque Per potenziare Le mie luci Chissà perché sono solo qui Saranno da farmare Per un personaggio L'impressione Ok Ho preso la chiave Sì perfetto Quindi si sbuca qui Interessante La accompagno un secondo A prendere la sua chest Che ho dimenticato qua dietro Anche se Dov'è Era qui accanto Sono sicuro C'è una statua Lì vicino No io pensavo fosse molto più vicino No Ora perdo 20 secondi in più Di quanto pensavo Salva Sarà bene Allora Apriamo sta cosa Così possiamo usare La parola di cannone È tutto un filler Effettivamente Dov'è? C'è uno qui? Dov'è? Sarà sotto Ah è lì sopra Boh Si può anche prendere Mi piace come li mettono in posti più Strani Ecco Questo effettivamente è un posto abbastanza peculiar Però bello Lume preso Allora Arrivo Oh Ah lì si salta Sembrava una roccia da rompere Ma ecco cosa c'è da rompere Qui l'altro muro Perché avremo il cannone ora Sì Cannoni Qui cos'è? Niente Devo aprire e basta Bene Anche si risparmia le scelte Cos'è? Cosa vuol dire? Non ho più luce Ma cos'è? Una fregatura Perché? Una parola di cannone In una chest Mi mancava In game shenan Lume preso Mi mancano Due credo Due tre Beh basta così Non morirmi per favore Mi è avanzata una luce L'ho visto male Oh beh Non è più a far mio Addio Beh è tempo di fare report Perché report? Andiamo dal cannone E buttiamoci la palla da cannone Così facile No dobbiamo fare report Perché sì Su Sentiamo Hai trovato la palla di cannone Ho le palla di cannone Ti vede in buona forma Come stanno i fusibili? Non male Non possono essere usati Devono essere usati Sono fatti in modo Di essere attivati Da una reazione con Gio Ma le anomalie Li hanno influenzati I Giolementi Dai fusi Sono diventati Questi inerti Cristalli blu Sono inutili Quindi i cristalli blu Si formano da Da questa energia Della grotta Non va bene Non eravamo preparati Beh c'erano parole Che Paimo Non ha capito Cosa accade Alle palle di cannone Senza i fusi Non è una Bella domanda Eh Paimo non ti ha sentito Nulla Dicevo che senza i fusi Non esploderebbero neanche Se li lanci in giro Come una palla Perché Beh Il fuso Li fa esplodere no? Legisce con Gio E poi il contenitore E poi Boom Si boom Ma senza il loro fuso Non esplodono per niente Non sono inerti Le reazioni Gio Potremmo fare noi Le reazioni Gio Per caso Non so come funziona Questa tecnologia moderna E conoscenza Alchimica base Però Energia potenziale Con gli elementi E' difficile da stimare Se presso un izzi Mi fa anche La lezione di chimica Qui Si praticamente E' come comprimere Energia E poi la libera In un colpo solo No? Energia Gio Energia Energia Dove nascondono Gli elementi Gio Che usano? I principi Sono diversi Per gli utilizzatori Va bene Possiamo far esplodere Quei muri In qualche modo Per favore Forza Forza Paimon Siediti Tranquillo Tranquilla Ehi Paimon Non è il tuo cane Beh Se ti fidi di me Posso fare un fuso Qui Alla Alla Crafting bench Non è che non ti Mi fido di te Ma sei un cacciatore Di tesori E non uno scavatore Non vuoi farci esplodere Fino in cielo? Anche se Paimon Si fida di te Non è che Paimon Lo farebbe Beh il compito è tuo Eh ma Zincio non ha detto Ah va bene Smetti di spiegare Cosa farà Paimon per te No cosa Cosa se ne farà Cosa se ne farà Paimon di te Dubito che rischerebbe Di farsi esplodere Anche lui Se chiede a Paimon È così che Le storie dei cattivi vanno Ha visto che dici così Paimon ascolterà Puoi semplicemente Fare la bomba E andare lì Basta Facile Per il cappello Assolutamente Mi piacerebbe Che lo tropassero Visto che ne uccidi Tipo tanti di questo tipo Sono quelli Che lanciano acqua No C'è qualche rischio coinvolto Nel caso si è preoccupato Dobbiamo prendere L'olio Essenziale Inamovibile Con la doppia densità È una pazione? Sì Una pazione Doppia densità Può servire per catalizzare Un'esplosione elementale È un po' paradossale In verità È una La chiamata Una Una pozione No ok in verità funziona Ok funziona Una doppia densità Si possono Si può mettere Doppia densità Nelle cose essenziali Sì 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 Usavo questo principio Per collassare Le grotte Nel mio tempo Come cacciatore Di Ah scusa Dai non ci porta I tuoi giorni Di Potremmo chiamarli Contrabandieri Perché non sembra Cattivo Cacciatore di tesori Quanto piccolo È questo rischio Beh se un'esplosione Accidentale avviene Che potrebbe Considerando la natura Degli oli Essenziali L'esplosione Non dovrebbe Non dovrebbe Modificare Formazioni geologiche È una piccola esplosione Allora Va bene Paimo non è così preoccupata Detto questo Qualsiasi Materia organica Nell'esplosione Potrebbe Soffrire Disintegrazione Separazione Fuoriuscite E Sarà un casino Paimo non capisce Ma sono spaventoso Che drive È una Crafting bench Possiamo fare La formula A fare lì Sarei materiali Vai a prendere Quello che serve Va bene Non scuotelo troppo E potrebbe esplodere Come Oh no Bene Crattiamo E qui Perfetto Posso farne più di uno Tre Ah Facciamone due Così per tenerelo come souvenir Nel caso Non serve più Bello che ha il simbolo del giro Ha riciclato Lo sprite Va bene L'ho fatto? Sì Tranquillamente Anche un bambino di sette anni Può leggere la formula Che ho fatto Non farti male Ah quindi ora devo Ah devo farne tre Ah ecco Quindi posso farne Altre due Ok Immaginavo Oggi ti distoria Non puoi farne più del dovuto Non scuotelo Potrebbe esplodere Non mi sembra esploda Va bene Dettagli Scuoti evidentemente Ci ho provato Assolutamente ci ho provato Eccolo qui Due Due Ok è tutto Non scuotarlo Ha detto scuotilo Ok Sembra che basterà Dobbiamo mettere Fuso nel Paro di cannone Teletrasporto rapido No Ok basterà Attento ora Non scuotere troppo Quella cosa in giro Quali cose potrebbero Accendersi Sono trovato con la mappa Sì la mappa nuova Sì Sì Non è niente Sono contento Ad aiutare Avete trovato Avete trovato Le palle di cannone E attenta Questa è già un fuso Se la muovi troppo Saremo finite Ehi ehi Da quando hai preso Queste arie Se è quella A tenere la bomba Dovreste Suonare abbastanza Colaggiosa Scommetterei È una minaccia Hai messo subito Di nascondere I tuoi colori Beh Ci farai esplodere ora Forza L'ho già detto Le bombe sono indiscriminate Cioè non è che esplodono solo perché io lo voglia Non è che posso leggere la tua mente Chissà cosa pensi Voi cacciatore siete sempre Gli stessi Menti criminali Con mentalità criminali E dove la bomba E noi è E ora è anche una bomba Forte Ora cosa Se fosse nelle tue mani Staresti esplosa un 30 volte Ora Per chiarificare Sto tenendo io la bomba E scusate Non volevo fidarmi di questo qui Funziona per me Posso male appena rispettare qualcuno Che salta ogni ombra Che vede Ehi mi state ascoltando Appena detto di far pace Quindi non chiedo di fidarvi a vicenda Ma La ship tra due è partita State calmi Sarebbe bello vederli fare più amicizie Ma Con calma Mi piacerebbe vedere se ci fosse un sviluppo Effettivamente Posso dire una cosa? Non era in giro a vedere lavorare su quella bomba Sta dito anche tu Siamo lavorati assieme Non andremo da nessuna parte Si mette il protagonista ora a dare gli ordini E tutto quello che ho da dire Wow Valdor si è arrabbiato Vabbè Sono le scelte in verità Finiamo subito l'argomento Cavolo è la prima volta in effetti Che ho visto il protagonista Parlare Arrabbiato Senza doppiaggio Voi due Mettiamo subito messi i muri Prima di parlare Non si comunica così Visto che siamo nel stesso team Parliamo Amichevolmente Ok Sarò stavolta Nessuno viene con me Vero io Io sto dal campo allora Non Non fraintendermi Vorrei aiutare ma Penso a G.U. Sembra Sembra più un aiuto Devo anche ringraziarla per accogliermi Sai Va bene Visto che Valdor Ha detto così Mi fidano di te Andiamo prima che comincino a A Discutere di nuovo Ed ecco la mappa Anche il boss Certamente Carina la mappa Facciamo così Facciamo esplodere il muro E finiamo Opiniamo anche adesso Dipende se parte la scena ora No perfetto Bene facciamo un bel kaboom dopo E proseguiremo Già la prossima settimana Così avrò tempo per Prendere un paio di queste cose fluttuanti Che vedo in giro Se riesco Manca ancora un bel po' Poi c'è anche la trama principale Che continua qui Che non posso Non posso raggiungere Mi sa non posso arrivarci Oppure si Boh Fatto stare non voglio comunque farla Dovrò aspettare Perfetto Bellissima live Mi sono divertito moltissimo qui Seppur mi turba che non è doppiato Ma mi ha dato Il gioco mi ha viziato Per ogni singola minima cosa E' doppiaggio Quindi va benissimo Anche che non c'è doppiaggio Così Dai non sto in silenzio Mentre li ascolto Dai ci può anche stare Allora Quindi per cominciare Per finire Potremmo tirare un raid Allora abbiamo Tanta gente online A quest'ora C'è uno che gioca in Scription Uno che gioca Gretti e Saturn Facciamo questo Che gioca a Gretti e Saturn Oh no mi scrive la chat Al contrario Non va bene Grazie per lo streaming Oh grazie a voi per essere passati Assolutamente Ma potrei fare C'è new Decisione Facciamo A questo qui di Genshin Impact Allora Oh anche a te Eh sì educazione base Grazie anche a te Questo qui gioca a Gretti e Saturn E come titolo di live Eh Niamolata della nuova waifu Quindi se Se si tratta di Gina Allora Lo approvo tantissimo Quindi grazie per aver seguito E vi saluto Vi prendiamo prossimo giovedì Senza pa... Mercredì Vendetti senza pause No Non posso più interrompere la live OBS crasha Quindi non posso fare il fade out A quando capita There's still a lot left to do There's still a lot left to do